Grazie a tutti gli amici che sono qui presenti questa sera e anche agli altri che pian pianino ci raggiungeranno. È un momento davvero importante ma direi che rubo due minuti prima di introdurre il dottor Donato Foresta proprio per dire che è un percorso che noi stiamo facendo, un percorso che abbiamo realizzato a giugno 2023, 26 giugno 2023, proprio all'inizio, prima del lancio della nuova legge sullo sport. Ci siamo un po' ritrovati a settembre, esattamente il 26 di settembre come regione Lombardia e poi il 26 di ottobre, in modo particolare col CSI Comitato di Milano, è stato fatto uno zoom particolare su tutto il tema della città metropolitana e poi eccoci oggi qui, 4 dicembre 2023, a questo quarto incontro per cercare di capire bene e meglio un po' cosa ci aspetta dal punto di vista della legge sullo sport. Chiaramente noi in questo istante siamo un po' presi tra due fuochi, da un lato la legge, la riforma sul terzo settore, da un lato e dall'altra la riforma dello sport, quindi siamo davvero tra due fuochi, ma sono sicuro che sono due fuochi amici e quindi noi da bravi sportivi sapremo esattamente districarci, fra virgolette, tra le realtà che ci troviamo di fronte. Certamente non è il modo corretto per poter far entrare questa riforma così importante, però noi cercheremo senz'altro, in modo particolare questa sera di nuovo con l'aiuto del dottor Foresta, di poter dirimere per così dire ancora le cose che rimangono un po' nebulose e cercare di poter perlomeno dare alcune linee di guida su cui potersi comportare dal punto di vista delle diverse attività. Questa sera noi affronteremo in modo particolare cinque macro aree che sono il frutto del percorso fatto in precedenza, quindi tutte quelle realtà e tutte quelle informazioni che abbiamo raccolto nei quattro precedenti incontri, abbiamo percorso di aver fatto uno zoom su tutte queste cinque macro aree, quindi andremo a discutere un attimo, a verificare bene, approfondire meglio il tema chiaramente degli statuti, andremo a verificare, ecco qui ci sono alcune novità che poi il dottor Foresta ci dirà in primis, proprio come primo punto di discussione della serata, cercheremo poi di valutare assieme, capire bene le circolari applicative che si sono sviluppate, che sono presenti e le altre che eventualmente arriveranno da questo punto di vista per rendere direi la nostra attività ancora più scorrevole, per regolette. Cercheremo di capire poi un attimo il tema dei volontari, perché nell'ambito delle domande che voi ci avete riportate, devo dire che è stata la parte più gettonata, se mi passate, proprio per le domande, le richieste, i dubbi che giustamente ancora ci sono dal vostro punto di vista. Parleremo poi del RAS, anzi faremo di più, meglio, il dottor Foresta farà di più, farà una demo live del RAS in modo tale che possiate vedere dal vivo sostanzialmente alcune delle informazioni, alcune delle funzionalità che certamente sono importanti dal punto di vista della gestione, per capire il percorso da poter utilizzare in questo tipo di consenso. Chiuderemo questa prima parte con eventualmente una serie di domande ancora da poter utilizzare. Noi devo dirvi che abbiamo raccolto tutte le vostre domande, sono state indirizzate, noi abbiamo fatto anche un pre-meeting prima di questo momento di incontro, sono state già indirizzate anche al dottor Foresta, in modo tale che possa avere, per così dire, avere questa informazione già dalle indicazioni che voi avete, ci avete rilasciato durante la fase di iscrizione. Qualora ci siano chiaramente delle altre richieste, delle altre domande, vi invito chiaramente a utilizzare la chat in modo tale, specificando magari nome, cognome, comitato o associazione sportiva, chiaramente per poter rispondere potenzialmente magari in diretta e qualora non saremo in grado di rispondere in diretta lo faremo certamente in successiva battuta. Mi aiuteranno in questo percorso chiaramente anche Matteo Celozzi che è la nostra regia questa sera, l'amico Emiliano che mi aiuterà assieme a Fabio Pini che ci raggiungerà tra poco, soprattutto sull'ultimo tema, un tema che riguarda in modo particolare i comitati, ossia i direttori di gara, in realtà che chiaramente non interessa direttamente magari le associazioni sportive, perché le associazioni sportive ricevono un servizio da parte del comitato o dei comitati, ma interessa moltissimo chiaramente i comitati. Tutto questo lo faremo in modo particolare con una persona che ormai, io mi permetto di dire, un amico del CSI, il dottor Donato Foresta che molti di voi hanno avuto modo di conoscere, Donato sapete che è un dottore commercialista per chi non lo conosce, è laureato in economia e commercio all'Università della Sapienza di Roma, ha un master in business administration presso l'SDA Bocconi, esperto in consulenza fiscale e aziendale per società e associazioni sportive, vive dentro il mondo chiaramente dello sport, è stato consulente fiscale anche del CONI Lombardia ed è docente presso la scuola regionale dello sport CONI Lombardia. Allora, io direi Donato, lascio a te la palla, come si suol dire, per poter iniziare questo primo macroarea che sono gli statuti. Grazie di nuovo per essere qui con noi questa sera. Bene, grazie, grazie Marco, grazie a tutti voi di essere sempre così presenti e numerosi. Siamo davvero nella fase attuativa della riforma dello sport che appunto ha preso inizio sull'aspetto dei rapporti collaborazione dal primo di luglio e dal primo di luglio in effetti in avanti abbiamo avuto modo di incontrarci già altre volte e piano piano stiamo mettendo proprio a fuoco i particolari e oggi ci soffermiamo sull'aspetto prevalentemente operativo dei rapporti di collaborazione appunto con questa demo che vi faremo vedere del funzionamento del RAS proprio perché diciamo è un po' il centro dell'attenzione per lo svolgimento, l'esecuzione degli adempimenti che riguardano i rapporti di collaborazione. Quindi anche il RAS si sta piano piano allineando e credo che sia l'occasione buona per vederne il funzionamento. Però, come diceva Marco nella sua presentazione, iniziamo subito dagli statuti. Iniziamo dagli statuti perché la scadenza per l'adeguamento degli statuti si sta avvicinando. La scadenza è infatti il 31 di dicembre 2023. Io provo a condividere le slide, chiedo soltanto se riuscite a vederle. Adesso sto provando a condividere lo schermo. Vediamo se... Ecco, si dovrebbe vedere la slide introduttiva. Ok, procedo. Questo è immancabile memo della composizione della riforma con i suoi vari decreti che l'hanno composta. E adesso iniziamo a parlare degli statuti. Allora, io su questa slide mi soffermo qualche minuto, partendo appunto dal presupposto che il decreto di riforma prevede che entro il 31 dicembre gli statuti debbano essere adeguati appena della cancellazione d'ufficio dal RAS. Ora, iniziamo subito con una notizia davvero di questi ultimi giorni. È stato presentato un emendamento a un decreto legge di ottobre del 2023, che quindi va in conversione tra pochissimi giorni, al 13 dicembre, secondo cui la scadenza per la modifica degli statuti viene prorogata al 30 di giugno del 2024. Questo, diciamo, in qualche modo è una presa di coscienza, una presa d'atto da parte del nostro legislatore, comunque della necessità di maggior tempo chiesto dall'associazionismo sportivo, dalle società sportive, soprattutto oggettivamente in questo periodo in cui non si riesce a completare l'iter per la registrazione, un iter che adesso piano piano comunque rivediamo insieme. Allora, sostanzialmente quando così mi si chiede quali siano le aree di intervento, quindi le modifiche da farsi agli statuti, la risposta ormai è abbastanza consolidata. Sostanzialmente se gli statuti avevano già una loro identità e erano già adeguati alla normativa, chiamiamola civilistica e fiscale delle società sportive direttantistiche, devono, possiamo dire, sostanzialmente fare due tipi, due sole modifiche. La prima modifica è quella riguardante l'oggetto sociale, l'oggetto sociale, per cui occorre in modo esplicito, in modo quindi espresso, evidenziare che l'oggetto sociale abbia uno specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive direttantistiche. Quello che vedete pubblicato è il testo del decreto legislativo di riforma, dico sostanzialmente andrebbe ricopiato questo aspetto, questo che vedete con la lettera B. Poi si potrà far riferimento ad altalune e attività sportive che vengono praticate, poi se si tratta di una polisportiva si può far riferimento a più discipline sportive, però quello che si vuole porre in evidenza rispetto alla normativa previgente che vedete nella slide a fianco, l'articolo 90 della legge 289 del 2002, l'oggetto sociale quasi enfatizza la via stabile e principale dell'organizzazione e gestione, mentre fino adesso non c'era questa enfatizzazione della stabilità e del riferimento all'attività principale, si faceva riferimento all'organizzazione soltanto di attività sportive direttantistiche. Allora, innanzitutto, va bene, al di là dell'inserimento acritico, è evidente che la parola gestione che si affianca all'organizzazione vuole, diciamo, sottolineare l'impegno non soltanto di carattere organizzativo delle attività sportive, ma anche proprio la gestione diretta da parte delle associazioni e delle società sportive direttantistiche. L'elemento fondamentale è questa specifica che si tratta dell'esercizio in via stabile e principale, e questo perché lo si vuole distinguere da quello che consideriamo le attività diverse. Le attività diverse, che la legge chiama attività secondarie e strumentali, sostanzialmente sono quelle attività, possiamo sintetizzare, chiamiamole di carattere commerciale, per usare ancora termini abbastanza noti. Nell'ambito delle attività secondarie e strumentali, è opportuno riportare tutte le possibili attività che l'associazione, la società sportiva vuole esercitare, tendenzialmente queste attività hanno la finalità di portare risorse finanziarie a sostegno proprio delle attività principali e quindi delle attività istituzionali. Perché questa grossa differenziazione? Forse anche prima negli statuti avevamo sia le attività principali che le attività secondarie. Diciamo, qua cominciamo a vedere un po' i tre di union tra la riforma dello sport e la riforma del terzo settore. La riforma del terzo settore è una riforma che è partita nel 2017, la riforma dello sport parte nel 2019 e poi trova i suoi decreti nel 2021. Beh, il terzo settore, che in qualche modo possiamo paragonarlo, considerarlo un po' il settore cugino del settore dello sport, in qualche modo anche lo assorbe, ma infatti poi parlerò anche brevemente di questa possibilità per il mondo del terzo settore di svolgere attività sportive dilettantistiche. Il terzo settore, che è così concentrato sull'attività benefica, assistenziali, di sostegno, di donazioni ambientali, sociali, ha ben voluto distinguere l'oggetto principale dell'attività dell'ente del terzo settore dalle attività diverse, a tal punto che queste attività diverse possono essere espletate, come vedete nella parte centrale della slide, entro determinati limiti, cioè i limiti sono tendenzialmente di ricavi, i ricavi delle attività diverse per il terzo settore, non possono eccedere il 30% delle entrate complessive dell'ente o il 66% dei costi. Analogamente, la riforma dello sport prevede che con un decreto verrà stabilito il limite nel quale si potranno espletare queste attività secondarie e strumentali. È facile prevedere che questo decreto, che al momento non c'è, ma che dovrà arrivare, possa ricalcare le stesse condizioni che il legislatore ha voluto prevedere nell'ambito del terzo settore. Quindi è facile pensare che le attività, adesso entro proprio fortemente nel merito, che le attività commerciali che affianchiamo alle attività istituzionali possano essere espletate dentro determinati limiti di ricavi, che potrebbero essere gli stessi appunto al terzo settore, quindi 30% massimo delle entrate complessive dell'ente o 66% dei costi complessivi dell'ente. Cosa vuol dire questo? Allora, stiamo parlando degli statuti e quindi l'informazione è che gli statuti vadano sicuramente indicate puntualmente tutte le attività strumentali e secondarie che si vogliono espletare. Se non sono indicate, tendenzialmente poi non si potrebbero svolgere, salvo modificare nuovamente lo statuto. E in effetti in questi giorni, in queste settimane, stiamo vedendo degli statuti molto molto ampi sotto l'aspetto delle attività secondarie e strumentali, proprio per ricomprendere tutte le possibili attività di carattere commerciale che si possono svolgere. Pensiamo a quelle principali, pensiamo alla gestione di un punto di ristoro, un bar, pensiamo alla vendita di materiale sportivo, pensiamo alle sponsorizzazioni, pensiamo alla gestione degli impianti sportivi, ma io ho visto anche la gestione di centri di fisioterapia, di riabilitazione, addirittura centri estetici in talune, specie aree di fitness, la possibilità di organizzare viaggi, gite, pubblicare periodici. Ecco, tutte queste realtà, attività, ovviamente non sono sportive, possono essere interconnesse con lo sport, ma non sono sportive. Avremo dei limiti per poterle espletare. Il messaggio che voglio darvi, quindi, nella redazione degli statuti che vengano indicate esplicitamente e il motivo per cui devono essere indicati esplicitamente è perché saranno sottoposti a dei limiti. Come vedete nella slide, il legislatore però non è stato insensibile a quelle che sono le attività secondarie e strumentali che davvero sostengono lo sport, e in particolare le sponsorizzazioni e la gestione di impianti e strutture sportive. Per la verità c'è anche l'accessione di diritti e indennità legate alla formazione di atleti, ma su questo punto resterebbe un po' da vedere come evolverà realmente l'aspetto dei vincoli sportivi. Però restiamo sui due punti principali, sponsor e gestione impianti. Ebbene, queste attività potranno essere svolte senza essere assoggettate a nessun limite di ricavo. Contrariamente quindi a tutte le altre attività secondarie e strumentali per le quali i limiti di ricavo ci saranno e vedremo quali. Quindi, diciamo, io per far comprendere la razio di questa impostazione, ricordo sempre che quando ci troviamo di fronte a una ASD che ha, esempio, poche migliaia di euro di ricavi, 10-20 mila euro di ricavi, ma un bar da 60-70 mila euro di ricavi, probabilmente non è un'associazione sportiva. E questo è il motivo per cui il legislatore pone oggi dei limiti. Allora, quindi lo statuto deve bene entrare nella parte dell'oggetto sociale, distinguendo quella principale e stabile da quelle secondarie e strumentali. La seconda altra novità rispetto agli statuti precedenti è quella che vedete qua scritta. Anche qui non ci andiamo a inventare nulla, ma va semplicemente riportato che è fatto di vieto agli amministratori di ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantissime nell'ambito della medesima federazione o ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata. Rispetto alla pregressa normativa, ed è questa la modifica quindi da apportare ai propri statuti, non è più di vieto di espletare la medesima carica, ma qualsiasi carica. Quindi se io sono amministratore, prima non potevo essere amministratore di un'altra ASD e SSD nell'ambito della medesima disciplina, diceva prima la norma. Oggi è qualsiasi carica, quindi se io sono amministratore non posso essere né presidente né addirittura revisore o nel collegio dei probiviri, cioè qualsiasi altra carica sociale, nell'ambito della medesima federazione o ente di promozione sportiva. Guardate che qua, diciamo, per gli enti di promozione sportiva, come appunto il CSI, questa nuova versione dell'incompatibilità di carica è certamente più stringente perché mentre prima era fatto di vieto per coprire la medesima carica fra realtà che svolgessero la medesima disciplina, adesso non c'è più un richiamo alla medesima disciplina. Quindi per farvi un esempio, se io sono consigliere di una SD affiliata a CSI di pallavolo, non posso essere qualsiasi altra carica in un'associazione sportiva che faccia pallacanestro nella stesso CSI, mentre potrei esserlo in un'associazione che fa pallavolo ma che sia affiliata alla federazione pallavolo. Ecco. Cosa ci sia dietro questa espressione così rigide? Devo dirvi la verità, al di là della possibilità in qualche modo di... Io penso semplicemente ai prestiti, alle cessioni di giocatori, di atleti che possano in qualche modo, diciamo, alterare i risultati sportivi. Altro non vedo, però l'obbligo esiste e c'è poco quindi da non allinearsi. Perché? Perché il mancato allineamento a queste due indicazioni comporta l'obbligo in capo agli enti di promozione sportiva, alle federazioni, di non procedere alla riaffiliazione dell'ente o all'affiliazione in caso di neocostituite, con quindi l'esclusione dal RAS e la conseguente impossibilità di partecipare alle attività federali sportive e anche alla perdita dei benefici fiscali. Quindi l'adeguamento a queste conseguenze nel caso di mancato allineamento degli statuti. Voglio aggiungere a questi argomenti che ritengo questi punti che sono assolutamente essenziali un altro aspetto che invece non è previsto dalla normativa ma che invece viene assolutamente suggerito in questo frangente in conseguenza di una posizione della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto non democratica un'associazione sportiva dilettantistica in cui vi era una maggioranza, una forte prevalenza di soci minorenni per la presenza nello statuto e quindi anche nell'attività concreta dell'associazione della clausola statutaria dell'imitazione del diritto di voto lasciato esclusivamente a favore dei soci maggiorenni. Ora la Cassazione ha ritenuto che un'associazione a prevalente componente dei soci minorenni avesse necessità nel proprio statuto di prevedere il diritto di voto ai minorenni e in tante realtà che stiamo assistendo a forte componente, a forte presenza di soci minorenni stiamo introducendo il diritto di voto anche per i soci minorenni. Ora è evidente che il socio minore di età non ha diritto di voto cioè non ha possibilità di esercitare il proprio diritto il diritto viene, il diritto di voto nel questione viene appunto esercitato dal genitore quindi chi ne esercita la patria potestà. È una considerazione quindi non imposta dalla riforma ma una considerazione di rispetto del principio generale di democraticità delle associazioni sportive. Aggiungerei anche l'obbligo di introdurre l'impegno dell'associazione a conformarsi, della società sportiva a conformarsi alle direttive, ai regolamenti provenienti dagli enti, dalle federazioni, dal CONI, quindi da tutti gli organismi di vertice dell'apparato sportivo. Direi che questo assolutamente va ulteriormente inserito se non è inserito e stiamo introducendo dappertutto anche in tutti gli statuti anche il vincolo di giustizia sportiva per cui nel momento in cui si dovessero insorgere delle controversie specie fra tesserati e l'associazione, fra associati nell'ambito della chiamiamo attività sportiva, specie con particolare riferimento all'attività agonistica, demandare agli organi di giustizia della federazione o l'ente di promozione la risoluzione di questa controversia. diciamo che quindi lo statuto vale la pena rivisitarlo, ne dico l'ultima, poi andiamo agli altri argomenti perché in effetti sarebbero tante le particolarità che si potrebbero introdurre per tenere il proprio statuto curato un po' con un restyling alla luce anche delle evoluzioni. Cito soltanto l'ultimo aspetto che è quello di fare un forte distinguo all'interno dello statuto tra la qualifica dell'associato e la qualifica del tesserato. Oggi sempre più le associazioni si stanno aprendo a espletare attività, a svolgere il servizio sportivo non a favore dei propri soci, ma a favore dei propri tesserati non soci, in qualche modo equiparandosi alle SSD, quindi alle società sportive dilettantistiche di capitali. Ecco allora se questo è l'orientamento ammesso dalla legge, ammesso anche dalla normativa fiscale, tanto vale prevedere all'interno degli statuti anche una specifica clausola per il rapporto con tesserati non soci. Ora, ultimo aspetto legato all'ambito statutario è quello chiamiamo burocratico per completare l'iter di modifica. Distinguiamo le società sportive dilettantistiche di capitali dalle associazioni sportive. Innanzitutto diciamo che per entrambe occorre la delibera con il voto favorevole secondo le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Ecco, per le SSD, quindi per le società sportive dilettantistiche di capitali, si tratta sempre di un atto pubblico, quindi di un atto notarile. Per le associazioni sportive dilettantistiche è un'assemblea straordinaria, ma non necessariamente atto pubblico. Quindi si può fare un'assemblea come si sono sempre fatte con l'obbligo di registrare il verbale e lo statuto all'agenzia delle entrate. Vi ricordo che non occorre apporre marche da bollo perché sia le ASD che le SSD sono esentate dall'imposta di bollo, mentre per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro che vale 200 euro, la normativa è chiara, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta se lo statuto si è solamente allineato alle modifiche imposte dalla riforma. Quindi sostanzialmente ai due punti che ho introdotto, quindi la specifica dell'oggetto tra attività principali e attività secondarie e l'incompatibilità di carica. Ma se si sono voluti introdurre altri elementi, ricordate quelli che ho appena citato, il diritto di voto ai minorenni, il vincolo di giustizia, la clausola dei tesserati e altre piccole novità che ogni statuto può introdurre per aggiornare le proprie clausole, allora in quel caso l'imposta di registro è dovuta e va pagata, costa appunto 200 euro mediante e pagabile con modello F24. Colgo l'occasione per segnalare due aspetti che ritengo interessanti, poi torno indietro su questo slide, però volevo accennarvi prima a questo elemento. Personalità giuridica. È un punto molto importante ed è forse davvero uno degli elementi innovativi più interessanti per le associazioni sportive introdotte dalla riforma dello sport. Sostanzialmente la possibilità per le ASD, quindi non per le SSD, per le associazioni sportive che finora sono rimaste nell'alveo della qualifica di associazioni non riconosciute e stiamo parlando del 99% delle associazioni sportive, di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, quindi diventare associazioni riconosciute giuridicamente, che ha una conseguenza molto molto pratica e importante, che è la tutela patrimoniale di chi agisce per l'associazione. Le associazioni attuali, quelle che appunto ho definito associazioni non riconosciute, quindi ripeto il 99% delle associazioni sportive italiane, nel caso dovessero adempere alcune obbligazioni, e parlo di obbligazioni di carattere monetario, perché in adempimento di un contratto o anche in adempimento di un obbligo extra-contrattuale, penso a un infortunio, a un incidente che comporta appunto un risarcimento. Se le associazioni non dovessero avere proprie disponibilità finanziarie, trattandosi appunto di associazioni senza personalità giuridica, diciamo noi in termini tecnici, il patrimonio dell'associazione si confonde con il patrimonio personale di chi agisce, il che tradotto vuol dire che il danneggiato può aggredire direttamente il patrimonio di chi è agito per soddisfare il proprio interesse. Ottenere la personalità giuridica vuol dire invece porre una differenziazione netta tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio personale di chi agisce. Quando io dico di chi agisce, penso chiaramente, normalmente come si pensa al presidente, al legale rappresentante, ma guardate che in realtà il chi agisce può estendersi a qualsiasi membro del consiglio direttivo, che aveva eventualmente delega a compiere un certo tipo di operatività. Penso per esempio a un consigliere che debba occuparsi della sicurezza dell'impianto, che quindi non sia necessariamente il presidente. Se succede qualcosa è il patrimonio di questo a essere intaccato. Allora, il riconoscimento della personalità giuridica consente la separazione quindi del patrimonio, dell'associazione dal patrimonio di chi agisce per essa. E questo oltre a dare serenità e sicurezza agli amministratori e quindi ai consiglieri, al legale rappresentante, al presidente dell'associazione, ovviamente consente anche di avvicinare maggiori professionalità al mondo della gestione delle associazioni sportive. Professionalità che oggi, proprio per il timore di avere ripercussioni sul proprio patrimonio personale, tendono a non avvicinarsi. Cosa si deve fare per avere il riconoscimento della personalità giuridica? Sostanzialmente è richiesto l'atto pubblico, il che vuol dire che rispetto a quanto indicavo prima, cioè che le associazioni possano fare la modifica dello statuto con un'assemblea straordinaria ma senza notaio, per avere la personalità giuridica occorre un atto notarile. Occorre un atto notarile e quindi un atto pubblico e il notaio che ridige l'atto deve, al di là di verificare la rispondenza dello statuto alle norme della riforma, anche verificare che ci sia un patrimonio minimo inteso come somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Dopodiché provvederà a depositare l'atto all'ente affiliante, affinché tramite l'ente affiliante l'associazione possa essere iscritta nel RAS, diciamo nella sezione delle associazioni dotate di personalità giuridica. Questo è il leader, quindi bisogna andare dal notaio sostanzialmente. Ora vi dico che, ed è un altro dei motivi per cui ben venga la proroga al 30 di giugno. Mi spiace non potervi dare certezza, anche se ormai in qualche modo si sta confidando molto, anche perché c'è una, come dire, un'adesione davvero, possiamo dire, bipartisan sulla possibilità di proroga, anche perché non comporta nessuna perdita di gettito all'erario, quindi si può attendere. Ma questo arriva, diciamo, al momento giusto proprio perché, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, erano due le problematiche che si stanno proprio dipanando in queste settimane. La prima è che i notai che redigono l'atto hanno difficoltà in questo momento a interagire con gli uffici del RAS per espletare quel deposito necessario a consentire all'associazione di essere iscritta nella sezione delle ASD dotate di personalità giuridica. Non è ancora ben chiara la procedura della correlazione e della modalità di trasmissione degli atti dal notaio al RAS e quindi è importante che il RAS chiarisca questi aspetti. Il secondo elemento, che è quello che vedete in rosso, è che quella disponibilità liquida di una somma non inferiore a 10.000 euro è stata da molti interpretata come una mera presentazione al notaio del conto corrente, del saldo di conto corrente per far vedere la disponibilità, la presenza disponibilità di denari superiore a 10.000 euro. Ma proprio recentemente uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, parliamo davvero di pochissimi giorni fa, ha chiarito che ai fini della valutazione della sussistenza del patrimonio per il notaio non è sufficiente il conto corrente ma occorre una perizia giurata alla stregua delle perizie di valutazione del patrimonio che si fanno quando si vuole trasformare l'associazione sportiva in SSD, quindi in Società Sportiva Direttantistica di Capitali. È una perizia quindi svolta da un soggetto che ne ha le competenze, parliamo di revisori dei conti, ovviamente di dottori commercialisti, giurata, quindi giurata di fronte al notaio in cui si attesta questa sussistenza di patrimonio minimo di 10.000 ma valutando non solo il conto corrente ma tutta la posizione debito creditoria dell'associazione sportiva, diciamo per semplificare, vi faccio l'esempio di una SD che possa avere questi 10.000 sul conto ma debiti per 50-60.000 euro, va da sé che in quel caso il patrimonio minimo non può basarsi solo sul conto corrente e il notaio accetta, prende atto della sussistenza del patrimonio minimo solo in presenza di una perizia di esperto, di una perizia giurata. Detto questo quindi ben venga la proroga perché consenta innanzitutto anche a noi professionisti di affinare meglio il contenuto di queste perizie e al notaio di comprendere quali debbano essere le procedure di comunicazione al RAS. Questo mi sembrava assolutamente fondamentale ricordarlo per cui se qualcuno fosse interessato probabilmente è opportuno a questo punto cogliere la possibilità della proroga proprio per completare l'affinamento di questo iter procedurale. Torno un secondo indietro per segnalarvi una cosa. Molti avranno notato, avranno visto che all'interno della legge di riforma era prevista anche la possibilità di distribuire utili. La distribuzione di utili è ammessa soltanto per le ssd, quindi per le società sportive di capitali. Ora, in questo momento di modifica degli statuti, peraltro per le ssd con atto notarile, il consiglio che stiamo dando è quello di non introdurre clausole che consentano la distribuzione degli utili. Purtroppo questo è una pecca della riforma, la riforma infatti pur prevedendo, come vedete, io qui sto riportando il testo della riforma, la possibilità di distribuire utili, ecco, non è consigliabile semplicemente per il motivo che, diciamo, vi sto illustrando. Per potersi affiliare all'ente di promozione sportiva o a una federazione sportiva, per potersi poi iscriversi al RAS o, come già prima al registro CONI, è fatto obbligo alle federazioni, agli enti di promozione sportiva, di affiliare esclusivamente soggetti senza scopo di lucro. Ora, prevedere nello statuto la possibilità di distribuire utili rende sostanzialmente quest'SSD soggetti lucrativi. Quindi, primo punto, rischi di uscire dall'ordinamento sportivo, perché non ti posso affiliare e se esci dall'ordinamento sportivo non ti puoi neppure iscriverti al RAS con la perdita, ovviamente, anche dei benefici fiscali. Perdita dei benefici fiscali che si avrebbe, anche se nell'ipotesi in cui dovessero cambiarsi gli statuti di tutti gli enti di promozione sportiva e delle federazioni e ammettere l'affiliazione anche di soggetti con scopo di lucro, i benefici fiscali si perderebbero lo stesso, perché per poter avere i benefici fiscali, pensate all'assoluta assenza di tassazione sulle quote di iscrizione dei propri soci e dei propri tesserati. Ecco, questo beneficio si perderebbe perché per poter avere questi benefici bisogna esplicitare nel proprio statuto l'assoluto divieto di distribuire utili anche in forma indiretta, come previsto, adesso lo cito, è il punto C di quello che state vedendo nella slide, l'articolo 148 del testo unio delle imposte sui redditi. Cosa vuol dire tutto questo? Beh, se prima parlavo della personalità giuridica come uno degli elementi di grande interesse per le associazioni e davvero ha un palmo dal poter essere raggiunto, per le SSD la possibilità di distribuire utili è ben lontana, benché prevista dalla riforma dello sport. È ben lontana perché bisognerebbe cambiare il testo unico delle imposte sui redditi, ammettendo la possibilità che le SSD possano prevedere la distribuzione degli utili e quindi sostanzialmente essere soggetti lucrativi seppur nei limiti massimi consentiti di distribuzione dalla riforma stessa. Peccato questo perché la riforma ha abbattuto una barriera ideologica che è quella del soggetto che opera nel sociale che non distribuisce utili, avrebbe potuto attirare l'interesse di molti anche apportando capitali e io vedo con molti interessi questo soprattutto per la gestione in pianti sportivi dove la necessità di capitali è fortissima. Però in questo momento la norma non si raccorda con il resto dell'ordinamento quindi diciamo il mio suggerimento è di non inserire la clausola della distribuzione degli utili fin quando non ci sarà questa armonizzazione del decreto di riforma con la normativa fiscale e con gli statuti delle federazioni e degli enti. Peraltro guardate soltanto l'esempio che è nel materiale che poi vi distribuisco ci sono dei limiti di distribuzione così irrisori che già non rappresentano un grande appeal in questo momento. Resta l'aver abbattuto una barriera ideologica ma certo il rischio di perdere i benefici fiscali per introdurre questa clausola dove come ad esempio che vedete a fronte di un possibile utile di 50.000 te ne puoi distribuire solo 294 euro capite che il gioco non vale assolutamente la candela ma lo dico perché sento tante SSD che ci stanno pensando e lo stanno anche introducendo con grandissimo rischio di perdita e benefici fiscali in caso di verifica. Chiudo questo argomento degli statuti facendo riferimento ad alcune domande che sono arrivate io credo di aver risposto praticamente a tutte voglio soltanto segnalare alle ASD che siano già anche ente del terzo settore che siano anche associazione di promozione sociale che l'adeguamento statutario per la riforma dello sport è comunque obbligatoria io mi sto riferendo a quelle ETS a quelle APS che sono iscritte a RUNS quindi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore io credo che tutte queste che praticano sport abbiano già inserito nel proprio statuto la possibilità di svolgere attività, organizzazione gestione di attività sportive che è la lettera T di Torino del codice del terzo settore dell'articolo 5 del codice del terzo settore ecco però occorre allineare quello statuto anche agli altri aspetti che abbiamo citato sicuramente quello anche che può sembrare superfluo ma obbligatorio della incompatibilità di carica che nel terzo settore non c'è quindi va introdotta una clausola del genere va introdotto l'obbligo di conformarsi alle regole del CONI o della propria ente di promozione sportiva che probabilmente a livello di terzo settore non è stato introdotto quindi la modifica statutaria a mio avviso va fatta anche per quelle associazioni che risultino iscritte al terzo settore recuperando gli elementi che ho evidenziato per le ASD per le SSD allora io direi Donato mi sembra sicura si intervengo mi sembra che hai risposto a tutte le domande me le sono segnate una a una le tue risposte rispetto alle domande che erano state emesse durante l'iscrizione soprattutto molto interessante la parte della personalità giuridica e soprattutto anche il tuo ultimo intervento sul tema terzo settore APS ETS perché ci sono diverse domande che chiedevano ma io ho già sono già iscritto a RUNZ allora ecco mi sembra importante il concerto di obbligatorietà che tu hai poco fa evidenziato grazie allora proseguiamo entriamo nel mondo delle collaborazioni allora nel mondo delle collaborazioni ormai questo è diventato il mio la mia locandina di presentazione no? sempre un uno schema per ricordarci la figura del lavoratore sportivo suddivisa in sette figure tipizzate atleta allenatore istruttore direttore tecnico direttore sportivo preparatore atletico direttore di gara e vi ricordo ancora che stiamo aspettando che il dipartimento per lo sport approvi anche ulteriori categorie di lavoratori sportivi che le singole federazioni proporranno allo stesso dipartimento sulla base dei propri regolamenti tecnici qua dico sempre non aspettiamoci che venga incluso nell'ottava categoria di lavoratore sportivo le figure che non sono strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle singole federazioni quindi faccio riferimento a tutte quelle figure utilissime ma che non sono attività diretta nello sport che non è esplica attività diretta nello sport penso ovviamente alle figure amministrativo gestionali penso alle figure degli uomini delle pulizie dei custodi segreterie reception ecco non saranno mai mai lavoratori sportivi nell'ambito della disciplina dei rapporti di collaborazione veniamo davvero un po' al cuore del nostro intervento facendo davvero un veloce refresh è in qualche modo una sorta di spunta di ciò che tutti noi abbiamo fatto da luglio in avanti sicuramente abbiamo fatto i contratti sicuramente la prevalenza di questi contratti è stato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa la COCOCO spero immagino e anzi sono convinto che la sta grande maggioranza di tutti voi abbia già registrato questi contratti di COCOCO nella RAS colgo ancora l'occasione per ricordare che non c'è più nessun limite oltre il quale questi contratti debbano essere registrati a RAS il che tradotto vuol dire che tutti i contratti di COCOCO devono essere registrati a RAS e oggi il termine di registrazione a RAS è chiaro entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto quello scusate il trentesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avviato il rapporto di collaborazione per cui se io avvio un rapporto di collaborazione oggi che il 4 di dicembre entro il 30 di gennaio devo registrare questo contratto di collaborazione nel RAS sottolineo in modo assolutamente enfatico la registrazione del contratto alla RAS vuol dire comunicare a tutti gli enti negli istituti pubblici interessati all'organizzazione del mondo del lavoro in Italia la sussistenza di un rapporto di lavoro quella comunicazione a RAS va viene distribuita quindi in qualche modo arriva all'ispettorato del lavoro arriva all'INPS arriva all'INAI quindi è una comunicazione di trasparenza nel mondo del lavoro che è stata introdotta con la filosofia con la pratica della riforma dello sport non c'è più il limite dei 5.000 euro anche le collaborazioni sotto i 5.000 euro devono essere tutte iscritte alla RAS sto parlando delle co-co-co sto parlando delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo quindi sto parlando delle co-co-co delle co-co-co per quelle sette figure che abbiamo visto nella slide precedente questa slide che sto mostrando ricorda quali sono diciamo le agevolazioni quindi non si pagano imposte fino a 15.000 euro oltre 15.000 euro si pagano imposte secondo gli scaglioni di reddito delle aliquote IRPEF vi ricordo ancora che i co-co-co-co devono essere iscritti alla gestione separata dell'INPS per quanto riguarda l'aspetto pensionistico e previdenziale finalmente dopo tanta attesa è stata emanata la circolare dell'INPS la circolare dell'INPS è del 31 di ottobre di quest'anno e ha chiarito effettivamente alcuni aspetti che erano rimasti un po' in sospeso nell'attesa dei chiarimenti dell'INPS ricordo ancora a tutti quanti che l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS dei collaboratori deve essere fatta può farla anche il datore di lavoro ma deve essere fatta prevalentemente dal collaboratore stesso ormai diciamo bisogna anche un po' abituarsi all'utilizzo di strumenti come lo speed si entra nel sito dell'INPS con il proprio speed e ci si iscrive alla gestione separata dell'INPS ovviamente la necessità deriva dal momento dello scavalcamento dei 5.000 euro perché? perché quando si scavalcano i 5.000 euro c'è l'obbligo di versare contributi previdenziali contributi previdenziali vuol dire accantonamento per la pensione ma oltre contributi previdenziali abbiamo anche dei contributi assistenziali questa slide grazie anche appunto ai chiarimenti della circolare chiarisce diverse cose la prima chiarisce le aliquote che già conoscevamo ma è stato un'ulteriore appunto conferma le aliquote sono del 25% per i collaboratori sportivi co-co-co sportivi non iscritti presso altre forme pensionistiche e del 24% per chi è titolare di pensione o per chi è iscritto in altra forma pensionistica obbligatoria vi ricordo che questo 25 questo 24% si applica alla base imponibile che vuol dire l'eccedenza oltre i 5.000 euro di compenso abbattuto della metà per i primi anni fino al 31-12-2027 quindi dal 1 gennaio 2028 l'aliquota del 25% si applicherà sulla base imponibile piena quindi faccio sempre l'esempio se il compenso è di 8.000 euro supero i 5.000 di 3.000 euro in questo momento la base imponibile è la metà il 50% di 3.000 euro cioè 1.500 euro su questo 1.500 euro applicherò il 25% o il 24% a seconda che il mio collaboratore sia non iscritto o iscritto ad altre forme di previdenze obbligatorie non vi spaventate perché adesso vediamo esattamente cosa succede con quella demo di funzionamento del RAS vi però mostro ancora due elementi di interesse di questa slide la prima parlavo di contributi assistenziali è quel 2.03% che vedete qui nella slide è un'aliquota aggiuntiva che interessa soltanto quelle categorie quei soggetti che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche per intenderci quelli ai quali applichiamo il 25% e questo 2.03% si applica allo scavalcamento dei 5.000 ma senza l'abbattimento della metà questo ha chiarito la circolare dell'INPS quindi su quegli 8.000 dell'esempio che facevo prima 3.000 è lo scavalcamento sulla metà quindi su 1.500 euro applico il 25% su 3.000 applico il 2.03% sia il 25% sulla metà che il 2.03% sul totale vengono sostanzialmente sostenuti per un terzo dal lavoratore e per due terzi dal datore di lavoro che cosa vuol dire questo faccio anche qui un esempio molto semplice ma poi lo vedremo davvero in funzione se su 3.000 euro io devo dare all'INPS con tutti questi conteggi 150 euro di contributi un terzo li devo togliere al lavoratore quindi 50 euro e 100 euro li deve mettere il datore di lavoro il versamento all'INPS avviene con modello F24 tutto versato dal datore di lavoro il quale mette la sua quota versando però anche quella che ha trattenuto al lavoratore con l'esempio sarà tutto molto davvero più comprensibile è importante questo e grazie alla circolare dell'INAIL del 27 di ottobre è stato finalmente chiarito e confermato che per le co-co-co sportive non c'è obbligo di assicurazione all'INAIL quindi l'INAIL si è fatta da parte sostanzialmente non è più l'istituto di tutela dell'assicurazione infortunistica dei lavoratori dello sport i quali quindi tranne i lavoratori dipendenti ma qui stiamo parlando dei co-co-co per i co-co-co la tutela infortunistica avviene grazie al tesseramento il che ci fa capire e qua si chiude anche un po' un cerchio che i lavoratori sportivi co-co-co devono essere tutti tesserati il tesseramento a valenza anche ai fini dell'assicurazione infortunistica ma è condizione sine qua non per poter essere registrati a RAS la mancanza del tesseramento ti impedisce di registrare a RAS il tuo collaboratore quindi di fare la comunicazione a RAS e a tutti contemporaneamente gli uffici del lavoro il che comporta in caso di assenza l'instaurazione di un rapporto irregolare la mancanza della comunicazione a RAS è sinonimo di rapporto di lavoro irregolare prima di farvi vedere il funzionamento del RAS vi ricordo che le stesse prerogative diciamo fiscali sono e previdenziali sono applicate anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale stiamo parlando delle persone che ci che collaborano con le nostre associazioni società sportive per i tesseramenti per fare un po' di contabilità per i rapporti con la federazione con l'ente che fanno le ricevute i rapporti col commercialista ecco diciamo potremmo estenderlo alla parte di segreteria reception anche se su questo tema diciamo c'è meno sicurezza specie quando queste forme di lavoro sono assolutamente prive di autonomia esecutiva in realtà la COCOCO come la COCOCO sportiva presuppone una certa libertà una certa autonomia appunto nell'esecuzione della prestazione ed è per questo che si parla di una forma di lavoro autonomo sostanzialmente appunto nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa vedete nella slide che io enfatizzo il fatto che la COCOCO amministrativo gestionale non è lavoratore sportivo il fatto che non sia lavoratore sportivo deve essere sempre tenuto in grande osservazione è facile confondere infatti queste figure con il lavoratore sportivo perché perché hanno le stesse prerogative fiscali vedete l'esenzione IRPEF fino a 5-15 mila euro e vedete anche il 24% il 25% il 2,03 esattamente quello che abbiamo visto per il lavoratore sportivo ma non è un lavoratore sportivo non è in quelle sette figure tanto è vero che applica l'INAIL l'INAIL ha confermato che il lavoratore amministrativo gestionale il COCOCO amministrativo gestionale è assicurato per l'infortunio sul lavoro all'INAIL nella circolare del 27 di ottobre del 2023 la numero 46 ha chiarito che il premio è del 5 per 1000 su una retribuzione convenzionale per farvi un esempio la stima è di circa 60-70 euro all'anno per COCOCO amministrativo gestionale come premio all'INAIL in questo modo diciamo si sono dissolte tutte quelle paure quelle tensioni che all'inizio di luglio avevano si erano diffuse nel mondo sportivo pensando a un INAIL addirittura da 60-70 euro a mese per collaboratore oggi parliamo di 60-70 euro all'anno per collaboratore amministrativo gestionale e solo per loro l'essere tutelati dall'INAIL vuol dire aprire una posizione INAIL e questa va fatta diciamo quanto prima se abbiamo già collaboratori amministrativi gestionali sapendo che il premio INAIL si paga all'INAIL a febbraio del prossimo anno e quindi dobbiamo arrivare già con la posizione INAIL aperta chi abbia già la posizione INAIL aperta per esempio per la presenza di lavoratori dipendenti non ha questo problema ma per chi non abbia mai avuto una posizione INAIL va aggiunta questa posizione I ha caricato i contratti di collaborazione sportiva nel RAS ricorderà che a un certo punto il RAS chiedeva un numero di PAT INAIL che però questo numero di PAT INAIL oggi è rappresentato da tutti i 0 da 8 0 perché questo perché nell'andare a registrare i co-co-co sportivi nel RAS ora che l'INAIL per i sportivi non c'è più ovviamente non c'è più necessità nel momento che andiamo a registrare i nostri collaboratori di mettere la posizione INAIL per queste figure e questo però ci fa capire un'altra cosa importantissima importantissima siccome gli amministrativi o gestionali non sono lavoratori sportivi la loro il rapporto di lavoro va comunicato non nel RAS ma al centro per l'impiego la comunicazione al centro per l'impiego va effettuata con un giorno di anticipo rispetto all'inizio del rapporto di collaborazione attenzione quindi che il co-co-co sportivo si comunica tramite RAS agli uffici del lavoro entro 30 giorni entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello dell'installazione del rapporto di collaborazione abbiamo più tempo per comunicare il rapporto di co-co-co sportiva per l'amministrativo gestionale dobbiamo muoverci in anticipo la co-co-co amministrativo gestionale proprio perché non è lavoro sportivo va comunicata almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro guardate l'ultima peculiarità che c'è stata chiarita dalla dalla circolare IMS che davvero ci ha lasciato un po' di stucco ma ormai siamo abituati e che per i mesi di luglio agosto qualora qualche fortunato amministrativo gestionale avesse superato la soglia dei 5.000 euro la liquota da applicare non è quella del 25 non è quella del 24 ma è quella del 33 per cento questo è durato due mesi perché poi col decreto correttivo di settembre è stato chiarito l'allineamento delle aliquote previdenziali e assistenziali del cococo amministrativo gestionale a quelle del cococo sportivo e quindi questo 33 per cento è sparito lasciando il campo al 24 e al 25 per cento ora considerato il gettito considerando che sono forse si contano in tutta Italia sulle dita della mano quali sono i cococo amministrativo gestionali che in luglio e agosto abbiano superato i 5 mila euro vedere quel 33 per cento chiaramente lascia davvero senza parole allora a questo punto io mi sposterei sulla posizione internet del RAS per condividere con voi le modalità di carico dei compensi Marco ti chiedo solo una cosa fammi un cenno prima di entrare nel RAS sì vi sto facendo vedere una slide che è un po' come se fosse un compito in classe ecco siccome la filosofia della riforma è che al di là del caricamento dei contratti credo che ormai tutti abbiano avuto esperienza abbiano capito come si fa tutto sommato al quanto semplice oggi dobbiamo familiarizzare con il carico dei compensi dopo aver comunicato i nostri collaboratori e questo carico dei compensi deve essere espletato con una consapevolezza una chiarezza riguardante lo scavalcamento dei limiti oltre i quali si devono cominciare ad applicare delle ritenute previdenziali per l'Inps e fiscali per l'IRPEF oltre i 5.000 euro scatta l'Inps oltre i 15.000 scatta l'IRPEF ora questa slide un po' antipatica è una serie di esempi di quello che può accadere nel 2023 nel 2024 diciamo questo problema non si pone è nel 2023 che c'è da mettere insieme ai fini IRPEF e quindi solo ai fini di ciò che riguarda la soglia dei 15.000 euro ciò che si è percepito nella prima parte dell'anno quindi fino al 30 giugno con ciò che si è percepito nella seconda parte dell'anno quindi da questo momento in avanti tutti i numerosi partecipanti a questo webinar non possono più confondere questo passaggio se io parlo di Inps parto da zero dal primo di luglio quindi dal primo di luglio quando scavalco i 5.000 euro di compenso entro nell'area Inps cioè devo pagare i contributi Inps solo per quanto riguarda l'IRPEF devo tener conto di ciò che si è percepito nella prima parte dell'anno perché devo sommando i redditi che percepisco non oltrepassare la soglia dei 15.000 euro per non assoggettare a IRPEF questi compensi ora io so che la maggior parte di chi all'ascolto è interessato al volontariato quindi 15.000 è una soglia quasi un po' un miraggio però non possiamo esimerci dal comprendere il funzionamento vi dico solo una cosa poi davvero passo a ras se nella prima parte dell'anno avessi percepito 8.000 euro ora nella seconda parte dell'anno prima di calcolare l'IRPEF ho 7.000 euro per arrivare a 15 mi sembra semplice il che vuol dire che se nella seconda parte dell'anno percepisco 5.000 euro appena scavalco pago l'INPS ma solo dopo che scavalco 7 pago anche l'IRPEF la difficoltà sta nel fatto quando i nostri collaboratori avessero anche qua importante oltrepassato i 10.000 euro lavorando anche con più altri collaboratori altri ASD SSD nella prima parte dell'anno ecco fate attenzione in questo caso che chi avesse già scavalcato i 10.000 euro al momento dello scavalcamento prima del 30 di giugno ha già pagato l'IRPEF sulla parte che cede i 10.000 il che vuol dire che dal primo di luglio avrà ancora un bonus di 5.000 euro ai fini IRPEF per essere esente anche per quanto riguarda appunto l'IRPEF chi ha scavalcato quindi 10.000 euro avrà 5.000 euro di bonus di franchigia sia ai fini INPS che ai fini IRPEF il fatto di monitorare con attenzione i compensi che i collaboratori percepiscono con altre ASD SSD diventa pertanto fondamentale perché lo scavalcamento avviene cumulando i compensi che i collaboratori percepiscono lavorando presso altre ASD SSD e guardate nell'esempio estremo che vi posso fare un collaboratore mi metto già nel 2024 che abbia lavorato con l'associazione Alfa con l'associazione A fino a giugno percependo 5.000 euro appena arriva nella mia associazione e guadagna 100 euro percepisce 100 euro è la mia associazione che deve calcolare e versare i contributi previdenziali quindi è il soggetto con cui avviene lo scavalcamento che è obbligato a versare i contributi previdenziali sulla differenza dei 5.000 che riguardano il collaboratore e la legge sotto questo aspetto è chiara al decreto di riforma conferma in modo tassativo che l'autocertificazione dei compensi percepiti spetta al lavoratore è lui che ci deve dire quanto ha percepito in ogni momento che sta per ricevere un ulteriore compenso questo per consentire a chi sta erogando il compenso alla SDSD che sta erogando il compenso di determinare eventuali ritenute da effettuare in presenza di scavalcamenti dei limiti quindi mi raccomando di chiedere sempre ai collaboratori prima del pagamento quali limiti reddituali di compenso abbia percepito non sto parlando di compensi percepiti nell'espletamento di un'attività lavorativa di altro genere di altro settore un dipendente bancario che guadagna X non ha niente a che fare con gli importi dei compensi sportivi un insegnante di educazione fisica che percepisce lo stipendio da pubblico dipendente per quei redditi non ha nulla a che fare con i compensi da monitorare per gli scavalcamenti delle soglie dei compensi sportivi io sto facendo riferimento ovviamente al lavoro sportivo in una di quelle sette figure che abbiamo visto espletate presso ASD e SSD ora questa diciamo introduzione sullo scavalcamento dei limiti è fondamentale per non sbagliare nell'elaborazione del cedolino del RAS ed eccolo qua dammi sempre notizia se riesci a vedere il ecco sei entrato nel allora sono entrato nel RAS di una associazione prova vedete che il menu lavoratore sportivo prevede l'unilav la menu unilav dove si caricano i dati dei propri collaboratori quindi si caricano i contratti e il menu contributi ora entriamo nel menu contributi e facciamo insieme delle prove allora io qua mi sono sacrificato per la causa quindi vedrete i miei dati ma è a un buon fine diciamo come si fa a caricare il compenso ho due possibilità di scelta chiaramente vado sul nuovo compenso a questo punto la maschera mi propone due alternative devo mettere il pallino se il mio collaboratore è iscritto o non iscritto in altre forme di previdenza questo è il primo aspetto importantissimo che dobbiamo assolutamente presidiare ma con comprensione abbiamo detto che i collaboratori sportivi sono iscritti alla gestione separata dell'Inps se il nostro collaboratore sportivo non è iscritto in altre forme di previdenza il pallino va su non iscritto quali possono essere le altre forme di previdenza beh prima facevo riferimento a un lavoratore di banca o a un pubblico dipendente ecco loro sono iscritti all'Inps dei dipendenti che è una gestione Inps diversa dalla gestione separata se chi vi parla dovesse avere un contratto da cococo sportivo io sono iscritto alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti quindi sono iscritto a un'altra forma di previdenza quindi anche in questo caso nel mio caso si sarebbe dovuto barrare che il soggetto che sto remunerando è iscritto in altre forme di previdenza possono essere iscritti in altre forme di previdenza coloro che svolgono attività di commercio qualche negoziante che fa anche il cococo sportivo qualche artigiano che svolge anche attività di cococo sportivo ricordiamoci le figure di lavoratore sportivo istruttore allenatore direttore di gara ne parleremo dopo direttore sportivo direttore tecno atleta per cui a te collaboratore faccio la domanda sei iscritto in altre casse di previdenza diverse dalla gestione separata dell'Inps guardate l'esempio mi è capitato non più di due giorni fa un consulente compartita IVA consulente d'azienda compartita IVA cococo sportivo questa persona è iscritta per la sua professione alla gestione separata dell'Inps quindi pur facendo il consulente d'azienda non è iscritto in una forma diversa di previdenza allora per erogargli il compenso sportivo bisogna barrare in quel caso non iscritto perché comunque anche se fa un'altra professione comunque per quella professione va la gestione separata dell'Inps quindi non ha un'altra forma di previdenza questo primo aspetto mi è stato chiesto in tutte le salse capisco che non è facile ma la risposta sotto certi aspetti è semplice quando si tratta di iscritto non iscritto dobbiamo chiedere al nostro collaboratore se lui è iscritto a una cassa di previdenza diversa dalla gestione separata dell'Inps fatta questa prima premessa importantissima perché se voi vedete quando clicco da una parte all'altra cambiano i quadri le caselle che stanno sotto e poi ne vediamo il contenuto quindi vuol dire che qualcosa succede ma vi dovreste già ricordare cosa succede perché nelle slide introduttive vi facevo vedere il 25% o il 24% vedete che se non è iscritto compare 25 se io metto iscritto compare 24 se io rimetto il 25 compare il 2,03 che non compare quando invece è iscritto in altre forme di previdenza attenzione altre forme di previdenza comprende anche i pensionati anche i pensionati ora deciso che il nostro collaboratore non è iscritto in altre forme di previdenza io devo andare a dire chi è questa persona ecco qua abbiamo soltanto il nostro foresta donato che però adesso io faccio una cosa molto veloce per tutela della privacy ma se io scrivo foresta escono tutti i foresta presenti nel ras facciamo attenzione escono tutti i cognomi tutti i nomi ricollegabili a quello che ho digitato a quel punto devo essere attento andare a selezionare il nome giusto altrimenti do un compenso a un soggetto diverso e chiaramente la cosa ha delle conseguenze se l'alternativa che ho è quella di digitare il codice fiscale ma non è sufficiente mettere le prime lettere come nel mio caso devo proprio digitarlo tutto vabbè io le ho provate tutte quindi vi dico le mie esperienze inserito la persona a questo punto devo andargli a dare il compenso qua vanno inseriti i compensi dati e cococo sportivi da luglio e qua mi chiede la data di liquidazione quindi devo mettere la data e io posso mettere una data indietro posso dire quindi si a lui era collaboratore sportivo dal primo di luglio e l'ho pagato il 14 di luglio ma attenzione posso anche dire che questo collaboratore lo pagherò domani quindi lo pagherò il 5 di dicembre lui prende questa data compenso quanto abbiamo pattuito abbiamo pattuito che ti devo dare 1000 euro ora nell'andare avanti lui il cursore si porta sulla casella non imponibile previdenziale che vedete è una casella è una casella già con un importo presente vi faccio vedere che tutte le caselle altre sono grigie mentre questa è bianca questa è modificabile tutte le altre no io qui non posso neanche entrare o meglio ci entro ma io provo a digitare non succede nulla sono campi bloccati questa no e facciamo attenzione che questa casella è quella a più alto rischio di errore perché qui bisogna rispondere a questa domanda dei 1000 euro di compenso quali di questi 1000 non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale questa è la domanda allora se io sto facendo il primo compenso con questo collaboratore eravamo a luglio i 1000 euro quanti di questi 1000 euro non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale sapendo che ho 5000 che ho 5000 euro di franchigia beh tutti e 1000 euro quindi posso mettere 1000 guardate appena ho digitato che si sono movimentate tutte le altre è comparso il netto a pagare ma è tutto zero perché l'intero importo è stato completamente assorbito nella casella che questo importo non è imponibile previdenziale allora seguite questo esempio io ovviamente adesso esaspero sugli importi ma per capire il funzionamento io a questo collaboratore ho dato 3000 euro il primo mese e gli ho detto essendo il primo mese sei nella franchigia dei 5000 euro il secondo mese ti do 2000 euro e quindi con i secondi 2000 euro io sono arrivato al tetto 3000 più 2000 5000 se io non sono attento il terzo mese che ti devo dare 1500 euro e non mi accorgo e non cambio peraltro quando lo carico qua mi compare sempre 5000 di default lui mi dice che mi devi dare un netto di 1500 ma io sto sbagliando perché devo essere io a ricordarmi che ho fatto già 3000 più 2000 quindi alla domanda di questi 1500 quanto di questo importo non è imponibile previdenziale la risposta a questo punto è zero perché io ho raggiunto il tetto massimo e tutti e 1500 sono da soggettare a contribuzione previdenziale guardate a questo punto che lui ha calcolato la parte di imponibile previdenziale che è il 50% dello scavalcamento cioè 750 euro calcolando l'IMPS del 25% e il 2,03 vedete su cosa lo calcola il 2,03 sull'importo pieno non abbattuto del 50% e lui ci dice quanto è da versare all'IMPS suddividendo la quota a carico del collaboratore dalla quota del committente quindi della ASD SSD e specificando il netto a pagare ecco quindi la complessità se volete è tutta in questa casella qui dobbiamo imparare a rispondere alla domanda quale dell'importo del compenso non devi assoggettare a contribuzione previdenziale per cui se facciamo un altro esempio 2000 il primo mese totalmente azzerati 2005 il secondo mese totalmente azzerati 1000 nel terzo mese qual è di questi 1000 la parte non imponibile previdenziale dopo 2000 e 2005 mi mancano ancora 500 euro quindi metto 500 e la macchina mi dice che restano ancora 500 da soggettare a contribuzione previdenziale 50% per il 25% 500 per il 2,03% con il netto a pagare molto ben visibile quindi la grossa attenzione è in questa casella ora cosa succede al nostro collaboratore se invece fosse stato iscritto ad altra forma di previdenza che applica il 24% e non applica più il 2,03% e quindi esce un valore più alto proprio perché l'aliquota è più bassa e manca anche quella contribuzione assistenziale del 2,03% ora non ci crederete ma da ieri il RAS fa anche l'F24 allora se io mi faccio vedere avevo già fatto la mia simulazione stabilendo che avevo dato un compenso in ottobre di 475 euro a questo collaboratore allora il lo scavalcamento della soglia dei 5000 in ottobre comportava l'obbligo del versare i contributi al 30 di novembre chi non l'ha fatto può intervenire adesso probabilmente non arriverà nessuna sanzione per la tardività perché ci hanno promesso così non è scritto ancora seconda scadenza che vi rammento è lo scavalcamento dei 5000 euro in novembre comporta l'obbligo di versare i contributi al 16 di dicembre quindi lo scavalcamento in novembre comporta il pagamento al 16 dicembre abbiamo ancora tempo lo scavalcamento dei 5000 euro in ottobre comportava l'obbligo del versamento dei contributi al 30 di novembre chi non l'ha fatto intervenga presto dove si calcola e dove si stampa l'f24 stiamo sempre all'interno del ras genera stampa f24 sostanzialmente io qua devo mettere poche informazioni la prima informazione è il codice della sede IMS nel caso che ci interessa è la sede 4902 stiamo facendo riferimento alla sede IMS in riferimento alla sede legale dell'associazione della società sportiva dilettantistica su internet si trova il riferimento della sede IMS territorialmente competente il cap dell'azienda si intende il cap della sede legale dell'associazione nel nostro caso 2124 e il comune dell'azienda qua ci si esprime come parla l'f24 l'azienda è la ASD e la SSD è la sede legale della ASD SSD e gli diamo Milano dopodiché io devo dire che il compenso per il quale voglio l'f24 era il compenso pagato in ottobre e quindi metto i compensi dal mese di ottobre al mese di ottobre e incredibilmente elabora l'f24 dovrebbe comparire l'f24 eccolo qua vedete i 72 euro da pagare con tutta la composizione e io posso procedere al pagamento ecco questo al momento è quello che ci offre il RAS ma non dimentichiamo l'obiettivo signori il RAS non deve fare solo l'f24 ma deve stampare anche il cedolino quello che chiamiamo diciamo in termini un po' più tecnico sia il prospetto paga che il lul il libro unico del lavoro in questo momento questa funzionalità non c'è ci sarà non solo ma se noi rimuneriamo qualche collaboratore il compenso il compenso ci obbliga anche a fare la certificazione unica a febbraio e il RAS sarà diciamo avrà la funzionalità anche di fare la certificazione unica abbiamo visto che già fa l'f24 manca ancora un'ulteriore funzionalità che a me servirebbe davvero a breve che è quella della elaborazione del flusso di dati per la trasmissione all'Inps dei dati dei collaboratori che hanno scavalcato i 5000 euro che si chiama Uniemens va fatto ogni mese in cui c'è lo scavalcamento l'Uniemens di ottobre andrà fatto entro il 7 di dicembre quindi abbiamo pochissimi giorni per auspicare che il RAS consenta anche quel tipo di possibilità se non lo devesse consentire probabilmente la scadenza verrà ulteriormente prorogata anche qui auspichiamo per il rodaggio di tutto il sistema che ci possano essere anche diciamo l'azzeramento di sanzioni proprio per consentire a tutti gli operatori di familiarizzare con questi strumenti ora ultima avvertenza che mi sento di darvi è questa torno sul compenso nuovo compenso se io indico che questa persona prende 18.000 euro il RAS mi fa il conteggio ma attenzione il conteggio è sbagliato perché il RAS non calcola l'IRPEF e quando si scavalcano i 15.000 euro in realtà bisogna anche conteggiare le ritenute IRPEF quindi spetta a noi operatori sapere che il RAS quando il collaboratore arriva a 15.000 euro e qua non sto dicendo se lavora solo con noi ma ancora una volta se lavora con più ASD SSD ecco dobbiamo essere noi accorti che non dobbiamo lavorare con il RAS ma purtroppo in quel caso il cedolino paga va fatto e i conteggi vanno fatti con un professionista esterno professionista esterno che è sempre chiamato ad intervenire per le co-co-co-amministrativo gestionali perché le co-co-co-amministrativo gestionali non vengono gestite nel RAS e sicuramente quando si va a inserire un compenso per una nostra per un nostro collaboratore deve essere questo collaboratore già stato registrato quindi deve essere passato già da Unilav ecco questo è la demo pratica del funzionamento del RAS io credo che sia il modo migliore per cominciare a familiarizzare capisco che possa sembrare un po' complesso in questo momento però probabilmente vederlo spero vi abbia aiutato a comprenderne perlomeno a vedere che faccia abbia e poi appunto provare a inserire i compensi da luglio in avanti per gli sportivi ok allora io dove diciamo vai scusa se intervengo ti ringrazio di questa dimostrazione volevo ritornare un attimino su alcune delle domande che sono state riportate proprio alla sezione RAS che tu hai visto proprio per cercare di dare qualche spiegazione agli amici che hanno scritto esattamente ci hanno mandato questa informazione sempre per rimanere su questo tema ma il nostro istruttore è brasiliano ha un permesso di soggiorno familiare quindi permanente sulla piattaforma è richiesto obbligatoriamente una data di scadenza come posso procedere? beh la piattaforma la data di scadenza riguarda il caricamento del dato è evidente che non puoi fare un contratto a un soggetto che ha una scadenza oltre la quale non può trattenersi in Italia quindi deve essere per forza limitata alla durata del permesso di soggiorno vi ricordo che nell'Unilav si possono fare ve lo sto mostrando anche le proroghe quindi prima di tutto il contratto va allineato alla durata di permanenza in Italia dopodiché se no questa persona è in Italia in modo irregolare quindi anche il contratto deve allinearsi a questo c'è un'altra domanda che così mai ti puoi respirare anche un attimo anche tu sempre sul tema della RAS la piattaforma esclude subito gli istruttori che non sono in regola con la formazione in caso possiamo aggiornare tutto man mano che si colmano le carenze relative alla formazione ma allora a me francamente questo non risulta so per certo che non puoi caricare un collaboratore sportivo se non è tesserato ma non se non ha assolto agli obblighi di formazione salvo che la carenza di formazione non comporti un'esclusione dalla permanenza nel tesseramento ma insomma francamente non mi risulta una volta che il soggetto è tesserato è tesserato è chiaro che debba rinnovare i propri mh crediti formativi chiamiamoli così ma è soltanto in fase poi di conferma del tesseramento che emergono queste carenze a quel punto non si viene tesserati e quindi si perde la possibilità di essere iscritti a RAS c'è un'altra domanda interessante che ho già visto anche sulla cantiere del terzo settore chiaramente sul titolare effettivo sì beh ma qua riguarda il mondo per le società di capitali non c'è dubbio in prima quindi l'SSD stiamo parlando certamente dei soci che abbiano almeno il 25% della quota di partecipazione nella società per le associazioni invece stiamo parlando esclusivamente delle associazioni con personalità giuridica quindi tutte le associazioni che non abbiano personalità giuridica in questo momento sono esumerate dall'ademplimento dei titolari effettivi che giusto per allineare tutti è una sostanzialmente una comunicazione che si deve fare per sintetizzare a registro imprese proprio per indicare chi è appunto la parola lo dice il titolare effettivo che non è l'amministratore ma il soggetto maggiormente portatore di interesse individuato appunto con il socio che abbia una maggioranza importante all'interno della società ti ringrazio mi sembra che abbiamo dato seguito a molte delle domande che sono state poi accorpate nelle risposte che tu hai dato oltre al fatto dell'attività dimostrativa sul tema che tu hai appena evidenziato sul tema dei contributi con tutte le attività e le azioni che sono state evidenziate passerei alla sezione dei volontari per poi lasciare lo spazio a quell'approfondimento sui direttori di gara faccio un po' un ponte dicendo che i volontari non si iscrivono al RAS partiamo da lì che tra l'altro è una domanda per dire nel RAS si iscrivono solo i COCOCO sportivi non i COCOCO amministrativo gestionali non i collaboratori con partita IVA non i volontari allora a questo punto torno sulle slide e direi di posizionarci subito sulla sulla scheda dei volontari allora in realtà io uso una scheda ma poi ormai avete imparato a conoscermi vado un po' a ruota libera ma questi documenti restano ai vostri atti ve li manderemo d'altronde sono anche un po' degli schemi questi per capire ma deve essere molto assorbito da tutti noi i principi che regolano la riforma e anche sui volontari ci sono degli interessanti principi partiamo dal presupposto che il volontario è qualcuno che opera nello sport ma può operare anche come amministrativo quindi non è necessariamente una delle sette figure ma lo dice la parola titolo spontaneo volontaristico spirito volontaristico quindi gratuitamente quindi nel momento che tu svolgi attività volontaria volontaristica non puoi avere diritto a compensi né si possono attivare altre forme di lavoro all'interno dell'ASD o della SSD remunerate il volontario quindi è qualcuno che supporta le nostre SD e SSD ricopendo il ruolo di istruttore di allenatore di direttore sportivo ma senza essere remunerato sostanzialmente cosa e come gestisco i volontari prima di tutto non faccio un contratto ma raccolgo una dichiarazione la dichiarazione di lavoro volontario questa dichiarazione di lavoro volontario che formalmente mi rilascia il volontario stesso io la devo conservare ai miei atti semplicemente per una risposta ad una immagine il volontario che è l'istruttore che sta operando sul campo e arriva un'ispezione se io ho la dimostrazione che quel collaboratore gratuito ha voluto lui stesso svolgere quell'attività gratuitamente sorpasso ogni dubbio che l'ispettore possa avere che si tratti di un lavoratore irregolare quindi la dichiarazione è fondamentale proprio per rappresentare la volontà di chi è sul campo a operare che lo sta facendo appunto a titolo gratuito nonostante ciò essendo comunque un soggetto che opera gratuitamente va assicurato va assicurato e è fatto obbligo di assicurare i volontari con la responsabilità civile per la responsabilità civile e per l'infortunio per l'infortunio si può ottenere questa copertura tramite tesseramento quindi anche i volontari vanno tesserati proprio perché ci consente di avere anche la copertura infortunistica obbligatoria la figura del volontario è diventata interessante soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del rimborso delle spese segnalo perché lo so che nel CSI sono presenti tante realtà sportive già anche soggetti del terzo settore per i soggetti del terzo settore il volontariato il volontario deve essere annotato iscritto in un registro vidimato ma la vidimazione del libro dei volontari non è obbligatoria né prevista per le ASD che quindi non siano già anche enti del terzo settore o associazione di promozione sociale ci si arriverà alla vidimazione volontaria anche nello sport forse sì ma in questo momento non c'è l'obbligo l'obbligo dell'avidimazione e l'attivazione del registro compete solo a quelle ASD SSD che sono anche enti del terzo settore ora per quanto riguarda la parte che dicevo interessante della riforma per quanto riguarda il volontariato è quella dei rimborsi spese allora la particolarità è che chiaramente il volontario non viene remunerato ma al volontario gli si attribuisce la possibilità di avere un rimborso delle spese sostenute stiamo parlando di rimborso di spese sostenute quindi il volontario deve documentare quelle spese deve dimostrare che ha anticipato sostanzialmente dei soldi acquistando qualcosa che è servito per l'espletamento dell'attività e quindi a favore dell'associazione deve portare delle fatture deve portare degli scontrini dei documenti giustificativi affinché l'associazione o la società sportiva possa provvedere al rimborso l'agevolazione nuova introdotta dalla riforma è che per quanto riguarda alcune tipologie di spese il volontario anziché presentarsi con le fatture con gli scontrini può presentarsi all'associazione con una sua autocertificazione quindi anziché dire mi rimborsi 20-30 euro di questa fattura 10-15 euro per questo scontrino che ho sostenuto per fare questa spesa per te associazione ti presento un documento riepilogativo che per ogni mese non può eccedere l'importo di 150 euro e l'associazione rimborsa paga l'importo riportato nell'autocertificazione allora se è chiaro il meccanismo è altrettanto chiaro a tutti che l'associazione non si ritrova i documenti di spesa e in caso di verifica l'unica cosa che può dare al verificatore è l'autocertificazione quello che diciamo riteniamo possa accadere è che il verificatore una volta acquisito il documento di autocertificazione vada a chiedere al volontario i documenti giustificativi perché questa autocertificazione non diventi un modo per chiedere dei rimborsi non giustificati e qua l'evoluzione che dobbiamo fare quindi tutti è quello di allertare i nostri volontari che si presentano con l'autocertificazione di non perdere i documenti giustificativi anche se a noi non ce li consegnano perché in caso di verifica rischiano che quell'importo che loro hanno percepito in assenza di documenti giustificativi che loro devono conservare quegli importi vengano considerati reddito e quindi assoggettati in sede di verifica a tassazione attenzione che nella peggiore delle ipotesi il verificatore potrebbe anche accusare l'associazione sportiva diciamo di una sorta di complicità in tutto questo e quindi non soltanto assoggettare a tassazione in capo al collaboratore quell'importo non documentato ma anche arrivare addirittura a un'ipotesi di indiretta distribuzione di utile con la perdita dei benefici fiscali in capo all'associazione quindi una leggerezza che davvero può costare molto caro vi faccio notare che affinché il meccanismo dell'autocertificazione possa funzionare occorre che ci sia una previa delibera dell'organo amministrativo cioè del consiglio direttivo che stabilisca quali siano le spese autocertificabili nella prassi che sto vedendo in queste prime settimane il consiglio direttivo ha deliberato che al volontario si possono attribuire autocertificando spese per vitto alloggio viaggio e trasporto sono le voci classiche qualcuno ha anche aggiunto altre tipologie di spesa come potrebbe essere per esempio l'acquisto di materiale sportivo però le più classiche sono quelle riportate anche nella slide vitto alloggio viaggio e trasporto e quindi diventa condizionante la presenza del verbale del consiglio direttivo che attribuisca il rimborso ancora altre due cose interessanti la prima non confondiamo il rimborso autocertificato con il rimborso a piedi lista cioè rimborso con tutti i documenti giustificativi che è l'unico modo per chiedere rimborso quando le spese sostenute eccedano i 150 euro ad esempio un volontario che per vitto alloggio trasporto nel mese di novembre abbia sostenuto spese per 220 euro non può autocertificare perché il limite è 150 euro ma a lui spettano i 220 euro perché le spese le ha sostenute soltanto non potrà autocertificarle ma dovrà consegnare i documenti giustificativi primo elemento importante altro elemento si aggiunge sempre alla tipologia di rimborso anche quello il rimborso chilometrico il rimborso necessario per potersi spostare con l'auto propria per andare a espletare un'attività a favore dell'associazione ora la novità importante introdotta dalla riforma è che il rimborso spese dei volontari per quanto riguarda il chilometrico riguarda la percorrenza dalla propria residenza quindi se immagino che un'associazione di Milano debba andare a fare una competizione a Brescia e il nostro volontario parte da un comune fuori Milano potrà chiedere rimborso chilometrico per la percorrenza dalla sua residenza a Brescia ma ancora attenzione importantissimo il volontario può chiedere rimborso chilometrico per la percorrenza dalla propria residenza alla sede operativa dell'associazione se questa sede operativa è in un comune diverso nell'esempio che facevo prima se la sede dell'attività sportiva è Milano e invece il collaboratore risiede in un comune fuori Milano lui può chiedere il collaboratore volontario può chiedere ogni giorno che si sposta da casa propria alla sede operativa il rimborso chilometrico il rimborso chilometrico per la percorrenza come diciamo noi casa ufficio quindi dalla propria sede alla sede dalla propria residenza alla sede operativa dell'associazione della società sportiva guardate che è ammesso con la riforma soltanto per i lavoratori volontari i cococò sportivi ai cococò sportivi è ammesso il rimborso delle spese soltanto per le trasferte ma che abbiano come punto di partenza la sede dell'associazione non la propria residenza e i cococò sportivi se dovessero chiedere il rimborso chilometrico per la percorrenza dalla propria residenza alla sede dell'attività possono richiederlo sì ma a differenza del volontario quel rimborso è equiparato a compenso quindi diventa reddito allora ricapitolando il volontario non prende soldi non prende compenso ma può avere rimborso spesa rimborso spesa anche chilometrico partendo dalla sede dalla residenza dalla propria residenza se questa è fuori dal comune può anche consentirgli il rimborso per la percorrenza da casa alla sede operativa dell'associazione può autocertificare i rimborsi e le spese che ha sostenuto mediante senza presentare documenti giustificativi purché nel limite di 150 euro mensili suffragati da una delibera dell'organo amministrativo che preveda queste spese ecco queste sono diciamo le regole che interessano i volontari ora il volontario non è iscritto all'INAIL sto guardando un po' delle domande perché come il lavoratore sportivo è iscritto al ha una un tesseramento quindi la tutela assicurativa infortunistica avviene grazie al tesseramento all'ente o alla federazione e non vanno iscritti al RAS non vanno comunicati al RAS in quanto non lavoratori sportivi non essendo diciamo lavoratori come i co-co-co i co-co-co remunerati sono esentati dalle normative sulla sicurezza sul lavoro e anche dal certificato antipedofilia dopodiché quello che io invece sto sostenendo è che se abbiamo volontari che operano a contatto con i minori è buona norma richiedere il certificato di pedofilia anche se la norma fa riferimento a lavoratori quindi parliamo dei nostri tendenzialmente co-co-sportivi o soggetti con partita IVA ecco a me sembra più o meno di aver coperto un po' tutte le domande non so se Marco ne vedi qualcun'altra stavo scorrendo anche io tutte le domande Donato ne ho viste due che magari le verifichiamo assieme una è c'è un volontario che percepisce la Naspi può ricevere un rimborso spese? sì allora la Naspi che sarebbe l'indennità di disoccupazione per qualcuno che diciamo ha interrotto il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento viene erogata dall'Inps sappiamo per analogia a quanto accadeva nelle Cococo prima che venissero introdotte anche nello sport che chi percepisce indennità di disoccupazione quindi la Naspi può continuare a percepirla ovviamente finché non ha lavoro ma nel momento che ha lavoro qualcosa succede alla Naspi per quanto riguarda i rapporti di Cococo se si oltrepassa il compenso di 5500 euro si perde la Naspi quindi attenzione a collaborazione sportiva nella forma della Cococo perché appunto oltre una certa soglia si mette a rischio l'indennità di disoccupazione fino a 5500 euro la Naspi è cumulabile compatibile seppur con un abbattimento del 20% per quanto riguarda il rimborso spesa invece assolutamente sempre compatibile perché comunque non si tratta di compenso sempre che gestito bene cioè in modo tale da non ingenerare invece un'ipotesi di compenso come potrebbe essere un'autocertificazione non documentata oppure un'autocertificazione oltre i limiti previsti dall'organo amministrativo quindi direi che il rimborso spesa se è autentico genuino assolutamente compatibile con la Naspi e con altre due domande per chiudere questo capitolo un attimino donato che vorrei farti la domanda è una la prima è questa un volontario può fare le pulizie della palestra che abbiamo in gestione come può essere rimborsato ma allora dicevo l'attività di volontariato può riguardare tutte le attività che si svolgono all'interno della nostra associazione società sportiva quindi non soltanto quella di carattere sportivo ma anche quella di carattere più gestionale mettiamola così partiamo sempre dal presupposto di una dichiarazione che attesti questa disponibilità a svolgere attività con spirito volontaristico e il rimborso spesa direi che è sempre ammesso devo dirvi che sarei un po' meno propenso ad accogliere l'autocertificazione che invece mi sembra più orientata ai rapporti di volontariato chiamiamolo sportivo quindi riferito alle famose attività riconducibili poi alle sette figure ecco però che al volontario che svolga un'attività nel custode lo fa a titolo volontaristico che mi raggiunge il luogo di lavoro senza essere remunerato il rimborso spesa lo ammetterei farei un'ultima domanda per chiudere questo capitolo soprattutto per quanto riguarda la parte dei rimborsi che come hai visto è estremamente molto corposa c'è il pagamento del rimborso in sile chilometrico dei volontari è necessario che venga eseguito per ogni singolo mese oppure si può pagare in modo cumulativo per esempio ogni quattro mesi no allora si può pagare anche in modo cumulativo l'autocertificazione è mensile invece quindi hai diritto anche a dare ipotizziamo che il nostro collaboratore ci presenti quattro autocertificazioni da 120 euro ciascuno in quattro mesi diversi posso raggrupparle al sesto mese gli do 480 euro tutti insieme ma che fanno riferimento ovviamente a quattro singole autocertificazioni benissimo vedo che c'è una mano alzata di Alberto Treponti ho invitato Alberto magari a farci per iscritto la domanda qui rimane al corso della serata vediamo di dare anche la risposta tramite l'amico Donato ma direi che lascerei a sto punto Donato questa parte legata al discorso volontario che mi sembrava direi circoscritta approfondita in modo davvero completo entrare quindi a questo punto nell'ultima parte nella parte di direttore di gara che come accennavo è una parte molto più specifica per quanto riguarda l'attività dei comitati più che delle associazioni sportive in quanto le associazioni sportive ricevono un servizio l'arbitraggio direttamente dal comitato allora a questo punto prima di lasciarti la parola Donato volevo anzitutto dirvi che è entrato in collegamento anche il nostro amico Fabio Pini mi piace ricordare permettetemi di dirlo con tutti gli amici che sono collegati che Fabio è stato recentemente nominato come responsabile degli arbitri e giudici a livello CSI nazionale quindi abbiamo questa sera una nuova carica quindi facciamo senz'altro un applauso non solo virtuale ma anche reale a Fabio per questa nuova responsabilità che come puoi immaginare è donata una responsabilità davvero importante e interessante e quindi poi chiederei anche a Emiliano con cui abbiamo fatto questo lavoro questo momento di preincontro proprio con te di seguirti in questo percorso della parte legata agli arbitri sostanzialmente in modo da poter dare agli amici del comitato in modo particolare alcune delle linee guida o delle indicazioni dal punto di vista delle best practices e delle esperienze che tu soprattutto hai individuato in questo periodo tenuto conto che non abbiamo ancora una linea di condotto chiara e precisa ma mi auguro che possa essere diciamo così redatta nel più breve tempo possibile grazie Donato grazie allora intanto complimenti ovviamente a Fabio per la nomina andrei visto anche l'orario molto al punto della parte pratica della gestione dei direttori di gara che resta davvero una delle parti più nebulose della riforma dello sport per come è stata presentata argomentata scritta proprio nella decreto di riforma peraltro nel correttivo di nel secondo correttivo la complessità della norma sta poi in un anteggiamento chiamiamo non proprio coerente armonizzato con tutti gli altri adempimenti che riguardano i rapporti di collaborazione nello sport di cui abbiamo parlato stasera quando abbiamo individuato le sette figure abbiamo visto che tra le sette figure c'è quella del direttore di gara abbiamo capito che nei rapporti di collaborazione possiamo far ricorso alla figura della la forma della formula della collaborazione coordinata e continuativa che deve sottostare a certe regole che abbiamo visto l'iscrizione al RAS l'accaricamento del compenso eccetera ora nel caso dei direttori di gara e abbiamo visto il direttore di gara è una delle sette figure a questo punto sarebbe stato molto tra virgolette semplice avviare la figura del direttore di gara a quelle stesse regole che riguardano le altre figure e in effetti devo dirvi che a prescindere da quello che leggo nella norma quello è l'atteggiamento il comportamento che i comitati ma anche al di fuori del CSI vedo applicare in sostanza cosa sta succedendo le designazioni degli arbitri effettuate per il tramite delle federazioni o degli enti di promozione sportiva diciamo rappresentano un po' fatemi passare il termine l'innesco del rapporto di collaborazione a questo punto se la federazione se il comitato individuano nella figura della in una figura specifica un direttore di gara designabile in una pluralità di manifestazioni di eventi si può pensare di paragonare sostanzialmente allineare questa figura ad un co-co-co e quindi utilizzare così le stesse forme che abbiamo descritto finora per i co-co-co sportivi quindi è il comitato che iscrive a RAS il direttore di gara è il comitato che eroga il compenso è il comitato che carica nel RAS il compenso così come abbiamo visto in modo tale da diciamo mantenere coerenza con tutte le regole che abbiamo visto finora nei rapporti di co-co-co nella veste appunto di una collaborazione coordinata e continuativa questo è quello che io mi sento in qualche modo di condividere restando in questo momento molto più freddo e distaccato sulla parte che qui vedete comunque nella slide che il rapporto di collaborazione sostanzialmente con il direttore di gara che avviene sempre mediante appunto designazione comunque interessi dal punto di vista della formale informazione ai centri del lavoro avvenga mediante la comunicazione al centro per l'impiego peraltro limitato ad un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 in un arco temporale non superiore a tre mesi ecco diciamo che in questo momento mi sento di suggerire di bypassare questa parte pensando invece all'applicazione di quello che vedo nella seconda parte della stessa norma queste sono le parole della legge per cui è possibile iscrivere alla RAS quindi provvedere a una comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi questo dice la norma entro dieci giorni e io mi appello a questa norma perché mi sembra più concretamente praticabile recuperando le stesse informazioni che applico per tutte le altre formule di co-co-co sportivo quindi sostanzialmente mi sento di suggerire la prassi della co-co-co sportiva anche per i direttori di gara con iscrizione al RAS e il pagamento caricato anch'esso nel RAS quando e se ci daranno chiarimenti sulla modalità di appunto innesco tramite comunicazione al centro per l'impiego procederemo di conseguenza devo dirvi nella comunicazione al centro per l'impiego per un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 in un arco temporale di tre mesi diciamo è altrettanto monitorabile quello che manca è tutto il resto che comunque viene ad essere una facilitazione pensiamo che se non passa da RAS non posso emettere il LUL l'UNIEMENS l'F24 l'ACU tramite RAS e quindi occorre ricorrere a un supporto esterno quindi a consulenti del lavoro commercialisti che procedano ai cedolini alla all'UNIEMENS all'UL e quindi al cedolino paga con ovviamente anche ulteriori oneri aggiuntivi completo questa informativa ricordando che per quanto riguarda i rimborsi spesa agli arbitri quindi i direttori di gara aspettano le stesse peculiarità dei rimborsi spesa dei volontari questo è molto importante perché sento spesso di arbitri a cui bisognerebbe dare davvero pochi spiccioli e a fronte di tutta questa complicazione forse varrebbe la pena tra virgolette quasi trattarli da volontari vista la possibilità eventualmente di provvedere al rimborsi spesa anche di carattere anche nell'ottica del rimborso chilometrico è addirittura ancora maggiormente vantaggioso per i direttori di gara perché il rimborso spesa non costituisce reddito anche per quanto riguarda quelle spese sostenute nel proprio comune di residenza mentre per il volontario avevamo visto che dovevano essere spese sostenute al di fuori del comune dove aveva sede la società sportiva con riferimento alla sede nella propria residenza per il direttore di gara tutte le spese anche sostenute all'interno del proprio comune di residenza sono ammesse e non sono considerate reddito questo ovviamente va molto bene per i grossi centri urbani ecco questo è quello che io mi sento di dire concretamente ai comitati per l'attivazione di un rapporto di collaborazione che possa avere una sua continuità quindi una serie di una designazione plurima laddove non ci possa essere una designazione plurima quindi un rapporto che si possa replicare nel tempo devo dirvi che in questo momento il mio pensiero va alla collaborazione ancora di carattere occasionale ovviamente che però esula dalla comunicazione a rasse dalla comunicazione al centro per l'impiego ma rientra nella normativa generale delle collaborazioni occasionali con la ritenuta da conto del 20% e compensi non superiori a 5.000 euro questo lo penso proprio per tutte quelle formule di rapporto arbitrale che si espletano davvero con un una tanto un one shot e non più senza possibilità di ripetute designazioni che invece aprirebbe ad una logica più strutturata più trasparente più chiara della sostanzialmente co-co-co-sportiva ecco questo è il mio approfondimento sul tema diciamo anche molto semplificato ma direi di stampo assolutamente pratico poi se qualcuno diciamo vuole condividere esperienze diverse insomma possiamo valutarne approfondirle e confrontarci Donato intervengo io un attimo in attesa che magari sia Emiliano che Fabio possano partecipare anche loro direttamente leggo qualche domanda delle famose iscrizioni che tu forse hai visto in precedenza una che mi balza un po' l'occhio è un po' questa tutti gli addetti ai referti segnapunti sono da considerare direttori di gara queste figure sono parte essenziale allo svolgimento delle attività sportive come vengono inquadrati? Secondo me sì perché la norma del direttore di gara cita testualmente che direttori di gara e ai soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze quindi mi sembra che tutte le indicazioni tutti gli addetti che hai citato nella domanda possano essere equiparate a quelle dei direttori di gara ecco c'è un'altra domanda che vedo qui la condivido con te con tutti gli amici che sono collegati come fare per imborsare un ragazzino che non è un arbitro ma arbitra una partita un ragazzino che non è un arbitro quindi vuol dire che non ha avuto una designazione stiamo parlando di un'associazione che quindi intende ringraziare con un 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 perdonato se posso per per chiarire il tema intanto buonasera a tutti nel cercare di interpretare la domanda che ha posto Marco eh pensando anche alla realtà dei nostri comitati quindi qui parlo a nome dei comitati della Lombardia dove diciamo così buona parte dell'attività è gestita con designazioni ufficiali di arbitri designate dall'ente quindi dal centro sportivo italiano nelle varie strutture territoriali ma buona parte dell'attività è autogestita senza arbitraggio ufficiale per tramite di questa figura di questi dirigenti arbitro che poi sono chiamati ad arbitrare le gare principalmente di categorie giovanili quindi leggo così la domanda che che ha posto Marco cioè le nostre società sportive hanno in in essere tanti dirigenti che sono chiamati a svolgere il ruolo di arbitro non ufficiale perché non designato dall'ente ma di dirigente arbitro per le gare di categorie giovanili quindi la domanda arriva da un'associazione sportiva che dice ma il mio dirigente il mio ragazzo che si presta ad arbitrare le gare di categorie giovanili che non vengono coperte con designazione ufficiale da parte di un arbitro ufficiale designato dal CSI è possibile ricondurre questo ruolo al ruolo di direttore di gara e quindi in qualche modo riconoscergli un compenso penso di aver interpretato così la domanda Marco correggimi se sbaglio ma questo è un po' il quesito insomma che interessa oltre ai comitati per la parte di designazioni ufficiali tante ASD che poi chiamano dei loro tesserati dirigenti ad arbitrare le gare di categorie giovanili quindi è possibile riconoscere un compenso a chi assolve questo incarico e quest'onere sotto questo punto di vista sì confermo anche io Donato quello che stavo dicendo un attimino fa Fabio interpreto anche io la domanda fatta da immagino società sportiva che richiama l'attenzione su quelli che sono i dirigenti arbitro di società sì è molto più difficile la risposta che inquadrarne la figura ovviamente che sotto certi aspetti voglio dire ti apre a uno scenario di poche decine di euro stiamo parlando di questo probabilmente però per forza dobbiamo fare lo sforzo di ricondurre questa remunerazione alle regole che abbiamo condiviso allora il direttore di gare è una delle sette figure sì se io lo pago io sono il suo datore di lavoro e lui diventa il mio lavoratore a cui devo dare un titolo è un co-co-co perché no potrei fare anche un co-co-co se questo dirigente so che mi farà questa attività per più volte sarà sempre lui per tutta la stagione per n partite non lo so lo fa solo questa volta collaborazione occasionale se è un co-co-co devo fare il contratto devo iscriverlo a Russ devo comunicare il compenso esattamente tutto quello che abbiamo visto no 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 ma in realtà lui non lo voglio gestire come compenso ma posso pensare se è un adulto perché la domanda è ancora più insidiosa parla anche di un ragazzino se è un adulto posso trattarlo da volontario direttore di gara allora se è volontario posso anche permettermi di fargli rimborso spesa magari se lui viene da un altro comune e sfrutto anche quella possibilità no se è un ragazzino chiaramente questo non posso farlo perché non ha la patente quindi come lo posso gestire torna la logica di una cococo di un ragazzino che possa fare per più giornate questo per più volte questo percorso oppure ho il ricorso alla collaborazione occasionale che può interessare sia il ragazzino sia l'adulto è ovvio che nell'ambito della collaborazione occasionale comunque due righe scritte vanno fatte e se si tratta di un ragazzino ahimè io devo raccogliere l'assenso del genitore poi dopo aver detto tutto questo posso immaginare quale possa essere la soluzione però diciamo da un punto di vista formale devo ricondurre tutto ai parametri del lavoratore sportivo alle possibilità di installazione del rapporto che applico anche per gli istruttori gli allenatori direttori sportivi e tutte le altre figure diciamo un po' più canoniche nel rapporto di Cococo ti ringrazio Donato riintervengo per dire e questo per capire se sono stato bravo io ad ascoltarti questa sera e anche in occasione del precedente appuntamento che abbiamo gestito come comitato di Milano rispetto a questo tema uno atteso che il tema dei rimborsi spesa comune su comune è praticamente impossibile da gestire e quindi siccome i volontari operano in favore della propria associazione sportiva e nel 99% dei casi stanno all'interno del comune di residenza questo è molto più complicato e allora si aprono due strade come tu ci hai appena detto o la classica Cococo sportiva e ognuno valuti per sé quanto convenga a gestire quanto sia complicato o semplice gestire una Cococo sportiva oppure come è appena ben detto una prestazione sportiva occasionale se è una tanto un fatto una volta ogni X diversamente se io ho il mio dirigente di società che tutte le domeniche mattina mi arbitra le partite della mia squadretta di bambini tutte le domeniche tutte le sante domeniche dell'anno va da sé che diventa prevalentemente una collaborazione coordinata e continuativa e allora posso gestirla lo censisco nel RAS e vale tutto quello che abbiamo detto prima per qualsiasi altra delle sette figure previste oggi dalla normativa insomma quindi lo si può gestire in questo modo per dare una risposta a chi ha queste esigenze chi vuole riconoscere giustamente un compenso per un servizio che poi è oneroso prestigioso faticoso continuativo e costante insomma mi sembra che ci sia della genuinità rispetto a un rapporto instaurato di questo tipo insomma sì devo dirti una cosa che in realtà il direttore di gara può avere rimborso anche per l'attività svolta nel comune lo stiamo guardendo anche nella nel proprio comune di residenza no scusami ti interrompo lo dicevo perché non può essere inquadrato come volontario proprio perché quello che dicevo non possiamo trattarlo da volontario perché sono quasi sempre comune su comune quindi anche il classico rimborso spese rimborso spese chilometrico per i volontari tristemente questa cosa non è ammessa mentre per i direttori di gara assolutamente sì insomma questa è l'opzione se io tratto il direttore di gara da diciamo volontario a mio parere prevale diciamo pro lavoratore quindi è un volontario ma espletando l'attività di direttore di gara mi sento di ammettergli il rimborso all'interno del comune capito quindi è un passaggio in più a favore di chi fa il volontario direttore di gara perché per il direttore di gara c'è qualcosa ancora in più del volontario pure se lui è volontario cioè il rimborso delle spese nel comune il tema è che quando sei nel comune probabilmente quel rimborso è davvero esiguo specie se parliamo no del rimborso di trasporto adesso voglio dire parliamo di città grandi come Milano Roma Napoli però voglio dire anche lì se ti sposti fai 10 km ci metti due ore però più di quello non fai però devo dire che la cosa interessante pensare che al volontario direttore di gara io gli posso dare anche rimborso all'interno del comune poi posso giocarmele un po' tutte ecco aggiungerei anche questa piccola particolarità che mi sembra interessante mettere insieme proprio perché il volontario in quel caso sta espletando la figura una delle sette figure è quella il direttore di gara che prevede questa tipologia di rimborso agevolato anche nel comune Donato ci stiamo avviando a questo punto verso la fine c'è ancora una domanda che però mi piaceva sottoporre la tua attenzione per condividerla con tutte le persone presenti parliamo ancora della parte legata alla parte pensionistica quota 100 e conseguenze sui dati INPS abbiamo parlato di NASPI e qui parliamo di quota 100 perché nell'ambito delle direzioni arbitrali ci sono diverse persone che chiaramente sono in questo tipo di contesto anche dal punto di vista personale e qua mi spiace concludere un po' in modo scivoloso ma non ho la risposta è soltanto una risposta di logica del sistema tutte le forme pensionistiche agevolate mal si conciliano con delle remunerazioni attenzione che mentre fino a giugno quei 10.000 euro di compenso non erano compenso per lavoro poi che se ne dica ma era un reddito diverso oggi il cococo sportivo è un reddito assimilato al lavoro dipendente e quindi tutte le forme pensionistiche agevolate subiscono posso dirle in modo un po' brutale ma per capirci dei ridimensionamenti dei tagli in presenza di prestazioni altre prestazioni di lavoro quanto e cosa sia questo ridimensionamento in questo momento non è dato sapere anche la circolare dell'INPS che è uscita recentemente sul lavoro sportivo non ha approfondito ancora queste interazioni con il mondo dello sport e il mondo del pensionamento ordinario o comunque agevolato come può essere quota 100 102 103 quota donna eccetera e quindi la risposta è di logica proprio in relazione a tutto il sistema le logiche pensionistiche agevolate subiscono tagli in presenza di lavoro altro lavoro svolto cosa che non vale per la pensione di anzianità se hai raggiunto i limiti di anzianità piena puoi tranquillamente svolgere un'attività remunerata nella nuova veste della co-co-co senza subire ridimensionamenti ecco non so dirvi le dimensioni di questi tagli speriamo che ce lo chiariscano ma farei molta attenzione farei molta attenzione perché possono essere anche tagli significativi benissimo buonasera dottore sono Fasani una domanda di parte se posso il comitato regionale utilizza giudici e arbitri dei comitati territoriali per le fasi regionali quindi parliamo di per ogni arbitro di 3-4 partite quindi sarebbe penso sia voglio dire poco favorevole fare un co-co-co sportivo per 3-4 partite 3-4 giornate e sarebbe sostenibile da un punto di vista poi anche fiscale se questi giudici e arbitri che sono co-co-co o volontari a seconda del trattamento che ogni comitato fa essere pagati dal comitato e che il comitato regionale poi rimborsi i comitati facendo attenzione però in questi rimborsi a non ricadere possibilmente nel campo IVA perché altrimenti diventerebbe anche qui un costo insormontabile ma allora nessuno mi vieta che onestamente che per quattro incarichi io non posso individuare una co-co-co eh lo dico perché nonostante possa aver spaventato un po' il funzionamento però alla fine una volta che hai capito com'è il gioco è anche abbastanza semplice hai il tuo bel contrattino hai il caricamento su RAS hai il caricamento dei compensi hai il programma che quando funzionerà fa tutto fa la F24 nel caso fa la CU fa l'UL quindi diciamo tendenzialmente lo vedo come uno strumento di semplificazione poi anche se limitato a quattro occasioni diciamo però non è che mi è vietato pensare a un rapporto che possa anche essere di più di quattro anche se poi si limita a quattro e quindi utilizzare ancora quello strumento il rapporto di riaddebito ecco su questo tema diciamo secondo me un piccolo approfondimento ci sarebbe da fare su quali possano essere i rapporti diciamo tra regionali e provinciali per quanto riguarda il sostegno delle attività istituzionali e quindi in realtà non far passare questo tipo di rimborso come una controprestazione corrispettiva ad una controprestazione ma invece come un contributo a sostegno delle iniziative dello sport di base che poi viene come dire svolto dal non dall'associazione ma dal comitato che però poi interviene sulla sull'attività sportiva delle associazioni di base quindi non so in questo momento mi sentirei quasi più di sostenere un fuoricampo IVA che non una controprestazione per come l'ho capita ecco però insomma quando dai IVA allo Stato è sempre contenta ci mancherebbe la formula più prudente però io posso vedere in questo un sostegno del regionale e i comitati provinciali per le spese diciamo di caratteri istituzionali che devono sostenere Va bene Donato direi che ci stiamo sono le 23 e 13 abbiamo ancora oltre un centinaio di persone che stanno resistendo a questa maratona anzi questa maratona mezza maratona questo percorso che abbiamo fatto questa sera lascerei la parte finale di questa serata ringraziando tutti gli amici che ci sono collegati ringraziando te chiaramente Donato ringraziando Fabio ringraziando Emiliano lascerei la parola a Paolo Fasani che è il presidente del CSI Lombardia per chiudere un po' questa serata e magari darci una rivederci Paolo lascerei te la parola sì grazie innanzitutto un grazie al dottor Forresta perché come sempre sono passate quasi tre ore e per quanto mi riguarda non sono riuscito a staccarmi un attimo da quanto stava dicendo perché è stato estremamente chiaro esaustivo pur nella complessità e soprattutto ancora nell'incertezza perché purtroppo come sempre in Italia le certezze le avremo man mano che usciranno i casi man mano che gli enti di controllo faranno le ispezioni usciranno le circolari usciranno risposta interpelli e così via e allora poi avremo delle certezze assolute per cui grazie assolutamente al dottor Forresta grazie a chi ha contribuito ad organizzare questa 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 serata quindi Marco Fabio Emiliano Matteo e tutti quelli che si sono adoperati e soprattutto grazie a chi ha partecipato perché il fatto che abbiamo 180 collegati che abbiamo ancora quasi 100 collegati la dice lunga sul fatto della confusione che ancora regna un po' nel senso che tante persone hanno ancora tanti dubbi sono ancora un po' spaventati dopo questa sera potrebbero essere meno spaventati però è chiaro che è una materia su cui bisogna lavorare bisogna provare bisogna entrare bisogna capire solo allora ognuno potrà fare scelta dalla metodologia più favorevole che una società sportiva o anche un comitato potrà seguire co-co-co sportivi operatori sportivi oppure volontari qui dipende molto dalle singole realtà dalle singole situazioni dalle singole organizzazioni certo è che questa riforma voglio dire è stata pensata è stata rinviata per un sacco di tempo e quando poi l'hanno fatta entrare in vigore soprattutto diciamocelo pure sport e salute che gestisce il RAS ma un po' tutti erano ancora voglio dire impreparati a dover gestire tutta questa enorme massa di informazioni di situazioni e quindi pian piano lentamente si sta andando a regime il fatto che anche continuano a spostare i termini di determinati adempimenti è proprio perché voglio dire anche il governo il dipartimento e lo stesso sport e salute si rendono conto che voglio dire la situazione non è chiave lineare e quindi anche per le società sportive soprattutto vi sono ancora tante difficoltà interpretative quindi sicuramente voglio dire non siamo alla fine del percorso io non voglio già mettere le mani avanti ma probabilmente verso magari la fine di gennaio bisognerà capire se è cambiato ancora qualcosa al di là di queste è già il fatto che gli statuti verranno probabilmente spostati al 30 di giugno che come dicono ci sarà tempo fino al 30 di gennaio per poter inserire così però è chiaro che non è tanto l'aspetto burocratico di inserimento ma a Monti ci deve essere tutto un ragionamento su cosa conviene fare e qui faccio una piccola considerazione che al di là della scelta che poi ognuno potrà fare quindi co-co-co volontari autonomi quello che si vuole bisognerà fare un modo però di fare un qualche cosa di chiaro e quando intendo chiaro intendo esattamente il contrario dello scuro e ci siamo capiti perché comunque pian piano più si andrà avanti e più voglio dire fino adesso lo sport era sempre stato lasciato un po' voglio dire allo stato brado difficilmente qualcuno andava a metterci il naso nelle società sportive se non quando c'erano magari degli aspetti che avevano addirittura rilevanza penale magari fatture gonfiate queste cose lo sappiamo l'abbiamo letto anche sui giornali quindi non c'è niente di scandoloso nel dirlo ecco da adesso in avanti secondo me pian piano voglio dire del 2024 in poi questi aspetti cioè gli aspetti lavorativi saranno comunque l'attenzione di quelli che sono gli ordini di controllo quindi andiamo pure con calma pensiamoci pure però dovremo poi prendere ognuno dovrà prendere una strada che sarà quella voglio dire che dovrà cercare di rispettare assolutamente nel modo più puntuale quelle che sono le disposizioni di legge che siano volontari che siano co-co-co che siano altre forme tipo il lavoro autonomo o addirittura il lavoro dipendente per strutture molto molto grandi è una svolta è una svolta io direi epocale forse non è stata gestita il meglio nei vari passaggi da parte voglio dire di chi doveva predisporre il tutto affinché il tutto funzionasse bene da subito però è chiaro che dovremmo lentamente adeguarsi quando dico lentamente intendo quello che ho detto all'inizio cioè che ognuno dovrà pensare riflettere capire e poi agire agire nel rispetto della normativa quindi grazie grazie a tutti soprattutto ringrazio ancora il dottor Foresta perché sono ormai tre ore e quindi voglio dire anche lui dopo una giornata di lavoro probabilmente sarà anche stanco ma come avete visto è una persona non dico solo professionalmente molto molto valida ma anche una persona che che tende e tenta sempre di spiegare la norma in funzione di quello che poi è la realtà delle società sportive perché è molto semplice dire la norma e questo si fa così e così però spesso in alcuni suoi passaggi vi è anche un ragionamento di quello che è poi la realtà del mondo sportivo soprattutto quello di base e questo è molto molto importante grazie grazie a tutti grazie Paolo grazie grazie davvero io ringrazio di nuovo tutti davvero per aver partecipato questa sera ringrazio chiaramente Donato Donato non è un fine del percorso come diceva il nostro presidente ma è un arrivederci ci sentiremo a questo punto dopo le vacanze e sono sicuro che molti di voi io non li vedrò non avrò il tempo di vederli in questo periodo auguro senza altro a voi tutti un buon santo Natale e poi ci vediamo alla prossima alla prossima edizione 2024 magari con lo stesso Donato su altri temi e su altre opportunità di condivisione grazie Donato grazie a Matteo grazie chiaramente a Fabio grazie a Emiliano e a tutti voi che avete partecipato stasera ciao buona serata a voi ciao Donato grazie ciao ciao grazie a tutti